Amici di Teleponte, buongiorno, ben svegliati. Ci sono io questa mattina, Francesco Marcozzi è ancora convalescente, dovrebbe tornare la prossima settimana. Inizio quindi con la rassegna stampa e poi proseguiremo con il nostro programma. Avremo degli ospiti, avremo Manola Di Pasquale intorno alle 7.30 per parlare di alcune vicende che riguardano Teramo. Avremo poi più tardi il sindaco di Crognaleto, Giuseppe D'Alonzo, che ci parlerà di questi rimborsi che l'Enel sta dando alla collettività di Crognaleto, alle famiglie di Crognaleto, dovrebbero esserci altre novità molto importanti. E poi nella parte finale della nostra trasmissione avremo ospite l'assessore al comune di Giulianova, l'assessore al turismo Archimede Forcellese, che ci parlerà anche delle prossime iniziative sul territorio comunale di Giulianova, come ad esempio l'inizio dei lavori di sistemazione della strada statale adriatica, nel tratto nord, ma anche di tante altre iniziative, faremo un po' il bilancio dell'emergenza maltempo sulla costa. Ovviamente tutto questo dopo la nostra rassegna stampa. Iniziamo adesso con il vedere quelle che saranno le previsioni del tempo, quelle che sono anzi le previsioni del tempo nelle prossime ore, dunque di questo sabato, e poi inizieremo con la nostra rassegna stampa. Previsioni per oggi in provincia di Teramo. Giornata caratterizzata da tempo soleggiato su gran parte del territorio provinciale. Dal tardo pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire dalla dorsale appenninica, ad opera di velature e stratificazione medio-alte, ma senza fenomeni da segnalare. Temperature in ulteriore aumento, ben oltre le medie stagionali, massime comprese tra 14 e 17 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 13 e 16 gradi sulle coste. Venti assenti o deboli a regime di brezza, adriatico calmo. Eccoci qui, iniziamo con la nostra rassegna stampa. Intanto il buongiorno arriva anche da Sergio De Angelis, questa mattina in regia. Iniziamo dal quotidiano La Città, la prima pagina, eccola qui. Ho rischiato di morire schiacciata da 30 quintali di ghiaccio. Questa è la notizia principale con titolo a tutta pagina che poi ritroveremo all'interno. Per quanto riguarda la politica Teramo, nemici amici, scontro a distanza tra Canzio e Torelli sui parcheggi gratis a spese dei commercianti. In Val Vibrata, ubriaco al volante, cerca di corrompere un maresciallo. Cronaca, il gastolano aggredisce e ferisce due agenti di polizia penitenziaria successo al carcere di Castrogno. Poi la politica, sono stato io, a candidare Di Matteo. Non lo voleva nessuno. Ieri intanto c'è stata la conferenza stampa di Dario Pilla, nuovo direttore generale della Banca Tercas che ha presentato il piano di rilancio dell'Istituto di Credito sulla Tercas. È arrivato l'uragano Pilla, in soli 23 giorni, ha rivoluzionato tutta la struttura della banca. Poi all'interno il parco, niente auto blu ma mezzi obsoleti. Teramo, un metadone affidato come? La procura indaga sul CERT di Teramo. Staremo a vedere poi, si tratta dell'omicidio di Adele Mazza. A Giulianova, poco mare, troppa sabbia nel porto. Ieri sono rimaste incagliate due imbarcazioni. Andiamo all'interno, l'Abruzzo, la cronaca regionale. Rossini è stato usato, un oggetto metallico. Lei non si rimetterà e parliamo dello stupro di Pizzoli. Tuccia comparirà martedì davanti ai giudici per l'interrogatorio di garanzia. Ricordiamo che è stato arrestato il militare accusato dello stupro ma anche di tentato omicidio da quello che leggiamo perché la ragazza ha rischiato di morire. L'assessore Gatti con i nuovi bonus assunzionali dal 2010 finanziate a 1.071 aziende per 3.000 posti di lavoro. Intanto, ancora andiamo avanti. L'Aquila, Copa Adriatica, raccolto fondi per il diritto allo studio. L'inchiesta, c'è l'indagine sui lavori post-sisma nelle scuole di Avezzano e sul Monaco, questa per quanto riguarda la cronaca abruzzese. All'interno invece iniziamo a sfogliare le pagine che interessano il nostro territorio. Teramo, nemici, amici, maggioranza in fibrillazione. Canzio propone parcheggi gratis a spese dei commercianti. E Torelli ribatte le idee di Canzio. Non sono certo la soluzione. Nella notte tra lunedì e martedì intanto chiude al traffico. tuttavia poi dal lunedì 21, lunedì prossimo, alle ore 21, sino a martedì alle ore 6 del giorno dopo per consentire i lavori di realizzazione della rotatoria. Poi la notizia che abbiamo trovato in prima pagina. Il Gastolano aggredisce e ferisce due agenti. È accaduto nel carcere di Castrogno. Andiamo avanti la politica perché il PDL arriva in pratica alla resa dei conti. Io, candidato Di Matteo, quando non lo voleva nessuno, il senatore Tancredi replica il capogruppo regionale. Votare lui al congresso significa fare entrare sul territorio la corrente di Gasparri. Berardo Tassone oggi a Roma al Consiglio dei Monarchici. L'evento, il fatto, luci spente da una settimana, protestano i terramani di via Rischiera. La protesta, ma la polizia municipale non interviene. Area camper al Michelangelo? Questo è l'interrogativo. Poi, per quanto riguarda il discorso che abbiamo affrontato poco fa, ovvero della banca Tercas, si abbatte l'uragano Pilla in 23 giorni. Ripensata tutta l'organizzazione. Il nuovo direttore generale ha riorganizzato tutta la struttura aziendale riprogrammandola su un modello directional divisionale. Adesso potremo guardare al futuro con tranquillità. Bisognava imbullonare. E abbiamo imbullonato. Questo è quello che sostiene appunto Dario Pilla. Intanto l'iniziativa, il 2 marzo all'asta mediante offerta segreta, il Consorzio di Bonifica vende case e stalle. Ecco qui la notizia. Sono stata schiacciata da 30 quintali di ghiaccio. La ragazza, coinvolta dal crollo della colonna ai prati di Tivo, racconta la sua verità. O altro che ghiacciolo caduto. Sono viva per miracolo. Non c'erano di vieti o transenne la foto. Lo conferma. Eccoci qui. L'iniziativa Minosse. Non ho nulla da nascondere. Finanziamo solo attività socialmente utili. Il sindaco replica sulle questioni dei contributi alla sua Ollus e alla Proloco, presieduta dal fratello. L'articolo riguarda Cortino. Poi, come affidate il metadone? La Procura ora indaga sul CERT. Parliamo dell'omicidio di Adele Mazza, perché in sostanza sarebbe stato affidato il metadone non in maniera del tutto conforme al regolamento. Comunque l'inchiesta è nata da una costola del processo contro Romano Bisceglia, che si sarebbe fatto consegnare le dosi destinate ad Adele Mazza e in parte le avrebbe vendute. Questa è l'ipotesi che sarebbe accaduta. Il processo, un testimone venerdì santo, Adele, era a casa di Romano. Ha in iniziativa anche rifondazione al presidio per il teatro romano. In comune, su 300 pratiche, terremoto e vase, solo 6, ma adesso accelereremo tutto il lavoro, lo annuncia l'assessore Rudi Di Stefano su questa iniziativa. Poi la TEAM si interconnette alla rete istituzionale e intanto scopre 2.000 evasori. Il fatto chiude un quarto della discarica la torre. Nasce il gruppo di lavoro sui DEORS in vista dell'arrivo del nuovo regolamento sui banchi del Consiglio. Comune, saranno 9 e non più 10 gli interinali che rientrano. Ma quando? Poi il fatto, il parco non abbiamo autoblu, ma molti mezzi ormai obsoleti. L'incontro Razzi e Scilipoti verranno a Teramo per presentare il libro Le mie mani pulite al Club 41. L'Azù è nostra l'agevolazione dei bus. Il Presidente interviene con una nota in risposta all'Adu. La questione del bus gratuito per portare gli studenti universitari alla mensa. Poi Val Vibrata, ubriaco al volante, cerca di corrompere il maresciallo arrestato. Sorpreso contro mano commerciante di 34 anni nei guai per evitare il sequestro dell'auto. È la quinta volta che gli ritirano la patente. Ad Albadriatica arrestato dopo 4 anni il marocchino che rapinò il negozio etnico dei connazionali. Tortoreto, l'Aggiunta Monti, viene meno ai suoi doveri. L'affondo del Partito Democratico, Albadriatica, Albadomani festeggia un anno con 4 progetti. Poi c'è un articolo che riguarda ancora la Val Vibrata. Siamo sirene del Nilo ma non chiamateci danzatrici del ventre. 4 ragazze di Martinsicuro dalla vita normale accomunate dalla passione per la danza esotica. Da mesi spopolano con spettacoli in costume e corsi di danza, conquistando anche la televisione. Poi ovviamente il quotidiano della città propone il controvoto nei comuni di Giulianova, Pineto e Roseto. Andiamo avanti, parliamo di Giulianova, la pagina Giulianova-Mociano. Giulianova, due pescherecci incagliati nel porto. L'eccezionale bassa marea di ieri mattina, peraltro il mancato dragaggio dei fondali, generano altri danni alla marineria, già in crisi per congiuntura economica. E mal tempo, c'è stato l'intervento della Coldiretti sulla questione. Molesta i clienti, aggredisce il buttafuori, ragazza di 24 anni, arrestata dai carabinieri. Questo è accaduto a Giulianova, l'ha arrestata una ragazza di Mociano. Adriatica Nord, i lavori iniziano il 29 febbraio a Giulianova. Poi Luigi Core, segretario dei Giovani Democratici, è stato eletto al posto di Francesco Tribuiani. A Roseto, rischio alluvione scongiurato, vendendo scuole e farmacia. C'è stato il tavolo politico del centrodestra, si sono tirate le somme. Il tavolo politico del centrodestra fissa l'agenda delle priorità per il governo cittadino. In tempo di crisi, opere e lavori saranno finanziati con un piano di alienazione dei beni pubblici. Poi Atri, palestra crollata, parchè senza copertura. Pineto, vittime della strada, anche a Pineto siamo tutti pedoni, l'iniziativa di sicurezza stradale. A Silvi, la variante al PRG finirà davanti alla Corte dei Conti. L'intervento è di Sinistra Ecologia e Libertà. Ad Atri, il futuro del Tribunale nell'incontro del PD. Incidente stradale paralizza intanto il traffico. Ieri a Roseto, poi c'è la pagina degli spettacoli per quanto riguarda la città. Poi lo sport, una domenica normale. Dopo tanti rinvie e turni mutilati, finalmente si torna a giocare. Ma la Sante anticipa oggi con la Tessa. Due giovanissimi del San Nicolò, provinati da Genoa e Juventus. Ancora lo sport, tanti gli abruzzesi e gli assoluti di Indor. Infine, la Brunimo Vano calerà i suoi assi. Lasciamo dunque il quotidiano La Città. Sfogliamo il messaggero, la prima pagina. L'Abruzzo piange di Vincenzo, è morto a 88 anni. Ha costruito un impero da 100 milioni di fatturato dal dopoguerra all'edilizia. Dall'Interporto alla Camera di Commercio. Una carriera in parallelo con Gaspari di lato. Abbiamo la notizia che riguarda la Tercas, la nuova struttura. Tercas si accorcia alla filiera banca-cliente. Arriva un consulente per riorganizzare. E c'è la foto ovviamente del nuovo direttore generale, Dario Pilla. Un modello al passo con i tempi. Andiamo all'interno del quotidiano Il Messaggero. Sfogliamo la prima pagina di Teramo. La verità di Ludovica e magistrati. Salvatore voleva lasciare Melania. Emergono stralci dell'interrogatorio dello scorso ottobre da Sergi. L'ex amante del militare. Non ha aspettato a me per tradire sua moglie. Omicidio Mazza, nuovo testimone. Adele viveva con l'assassino. Caso di Pietro, Costantini attacca Chiodi. Deve chiarire. Banca rotta da 15 milioni. Il capogruppo IDV in regione diffonde la procura Tancredi per la NK. La società è una di quelle con le quote sotto sequestro. Poi il fenomeno. Evasori il vicino di casa fa la spia. Boom di segnalazione e richieste di controlli per stanare i furbetti. Cade a Teramo. L'articolo è di Valentina Procopio. Poi in carcere il cognato del boss Cutolo si scaglia contro gli agenti accaduto ieri al carcere di Castrogno. A Giulianova esibizionismo in classe. Ragazza fugge piangendo. Si abbassa le mutande. Studente sotto accusa. Lei telefona ai genitori. Intervengono i carabinieri. Giulianova. Centro chiesta più sicurezza. Poi per quanto riguarda Roseto. Beni comunali in vendita per reperire i fondi. Appunto si parla del tavolo politico del centrodestra. Mentre Giulianova ferisce un militare dopo una festa giovane arrestata dal Badriatica. Piano alberghi e caos. Spaccatura nella giunta. Andiamo adesso a sfogliare le pagine sportive del quotidiano. Il messaggero. Ieri si è giocato l'anticipo tra Pescara e Regina. La squadra di Zeman è stata sconfitta 2-0. Il Pescara stavolta si inceppa. La regina sbanca l'Adriatico. Biancazzurri irriconoscibili. Puniti da Bonazzoli e Ragusa. Secondo stop interno. E prima partita chiusa senza segnare. Zeman in casa e va al contrattacco. Brutto primo tempo. Ma quante botte. Direttore di gara troppo permissivo. Abbiamo preso troppe botte. Questa appunto è l'affermazione di Zenec. Zeman. Poi Capuano. Solo una serata no. E quindi ci sono poi le pagelle per quanto riguarda il Pescara. Il basket. Eccoci qui Ramagli. Tercas più forte dei problemi. Questo è vero perché la squadra vince comunque. La squadra reagisce ma ci manca una guardia. Ovviamente dopo la partenza di Anthony Goods adesso il problema della guardia. Si ripropone per la squadra bianco-rossa. Giulianova. La seconda divisione è ok dalla Lega per lo stadio di Roseto. Manca l'ufficialità comunque che arriverà entro lunedì. C'è stato già il sopralluogo e quindi si potrà giocare allo stadio di Via Fonte dell'Olmo di Roseto appunto. La prima divisione per il Lanciano oggi alla Spezia. Una sfida playoff. Gautieri sereno la pressione sarà tutta su di loro. Poi la serie D. Sfida salvezza nell'anticipo tra Sant'Egidiese e Atessa. Ricordiamo gara che la formazione giallorossa di Gaetano Fontana disputerà dinanzi al proprio pubblico a partire dalle 14.30. Lasciamo il messaggero. Sfogliamo adesso il quotidiano Il Tempo. La prima pagina. Stuprata con un bastone di ferro. La ragazza torna in sala operatoria. Riapre la discoteca. Martedì l'interrogatorio del militare arrestato. Parla il procuratore Rossini. La situazione fisica è compromessa. Quindi se dovessero essere accertate le responsabilità di questo soggetto bisognerebbe riflettere insomma. Comunque andiamo avanti. A Teramo. Ho visto Adele seduta sul letto nella casa di Bisceglia. Si rafforza il quadro accusatorio delineato dalla procura. Testimonianza chiave al processo di corte d'assise a quel soggetto che ha compiuto lo stupro. Tornando su quell'argomento dovrebbero dare il massimo della pena. Senza neppure concedere nulla. Neppure la possibilità di procedere con gli altri gradi di giudizio. Comunque andiamo avanti. Sant'Egidio. Ubriaco alla guida. Finisce in manette per minacce e oltraggio. Val Vibrata. Violenza. Sentite decine di persone. Anche qui ricordiamo il caso di Nereto. Un mondo di bestie. A volte abbiamo a che fare con delle bestie. Via Po, strada chiusa, una notte per lavori. Giulia Nova, calce e pugni ai carabinieri. Arrestata. Teramo, la seconda di Teramo. Salvatore era deciso a lasciare la moglie. Le parole di Ludovica nella prima udienza ad Ascoli. L'amante di Parolisi ne era convinta. Intanto a Pineto, al Via, siamo tutti pedoni l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. La banca Tercas, il nuovo DG Pilla, avvia una rivoluzione organizzativa. Lasciamo la cronaca, andiamo a sfogliare le pagine sportive. E la regina, la bestia nera del Pescara, serata no della squadra di Zeman, apparsa poco lucida. Occasione, persa, due gol nel recupero con i calabresi. Condannano i biancazzurri alla seconda sconfitta. Casalinga, ricordiamo, 2-0 il risultato finale. La prima divisione, Lanciano, prova del 9 con la Spezia. In Liguria, i rossoneri affrontano una diretta concorrente per i play-off. Il basket, Teramo in campo a Bologna, lo spettro della crisi societaria. Resta aperto il problema degli stipendi. Aggravato dall'addio di Guz contro la Canadian senza i favori del pronostico, puntando al colpaccio. Non ci sono altre notizie che ci interessano per quanto riguarda il quotidiano e il tempo. Andiamo a sfogliare adesso il centro. Eccoci qui, la prima pagina. PDSL, la sfida parte dall'Aquila, avendola il post-sisma a caso nazionale. D'Alema, basta divisione. Poi, Teramo, Parolisi messo in cella con il giovane militare della violenza di Pizzoli. Francesco Tuccia, le notizie in alto. Però andiamo avanti perché poi si torna a parlare del caso di Pietro. Tancredi gestiva la società sequestrata. Soldi da Cipro spunta la procura al socio di Chiodi. Lavoro in Abruzzo. Gatti, 10 milioni per le assunzioni stabili. Sisma convince l'esempio di Gemona. Ancora Teramo. Il DG Pilla rivoluziona le filiali della Tercas. Teramo presentato il piano del dopo di Matteo. Tenta di corrompere il maresciallo commerciante arrestato a Sant'Egidio. Giovane finisce in manette. Era stato trovato ubriaco alla guida della sua auto. Poi il ginecologo vince la causa con la ASL e compra l'ecografo. Il dottor Petrella accusa il sindaco dall'assessore. Messo alla porta. Questo riguarda il comune di Silvi. Eccoci qui, l'interno quotidiano Il Centro. Tancredi gestiva la società sequestrata. Soldi da Cipro spunta la procura speciale al socio di Chiodi per la cappa immobiliare. L'apertura del quotidiano Il Centro. Poi si parla di Gianfranco Lande. È il perito del caso Madoff. Il PM nomina l'esperto che scopri la truffa dei parioli. Ricorso in casazione contro il no del riesame per tre arresti. Ginecologo, eccoci qui, la notizia che abbiamo trovato in prima. Acquista ecografo alla ASL, vince la causa, poi dà uno schiaffo morale all'azienda che lo ha sospeso. Petrella, infatti, il medico del consultorio familiare, protesta da mesi perché la struttura è senza il macchinario. La banca Tercas. Tercas più autonomia alle filiari. In soli 23 giorni il DGP lavare il piano del dopo di Matteo. Saremo semplici e veloci. I direttori di mercato lavoreranno con il Blackberry. Al settore rischi arriva un manager esterno. Poi Parolisi in eccella con il soldato della violenza. Il caporale messo insieme al giovane degli abusi sessuali sulla studentessa di Pizzoli. Ovviamente bisogna accertare le responsabilità, ma questa è la foto di Francesco Tuccia. Carcere, agenti aggrediti dal camorrista. Due poliziotti picchiati durante la visita. Medical detenuto. Bisceglia si tradisce davanti alla TV. Esclama durante un film su un omicidio. Io mi sono divertito di più. La donna fatta a pezzi. L'imputato del delitto Mazza viene intercettato di nascosto in carcere. Poi la Team. Nuove regole sui rifiuti. Tessera del tifoso. Oggi sfila il no degli ultrate ramani. Corto è dibattito al vecchio stadio. E c'è poi la pagina dedicata anche al carnevale. Maghi del carnevale. Tre mesi di lavoro per allestire i 14 carri. Domani è il 4 le sfilate tra il tifo delle contrade. Il presidente Romandini ormai è fra i più famosi. Si parla ovviamente del carnevale di Sant'Egidio alla vibrata. Teramo i ritardi al cimitero. Consegna dei loculi. Un altro mese di ritardo. La Team si scusa un fermo causato dalla neve. Ma a marzo faremo le prime assegnazioni. Poi via Po, ricordiamo, chiusa di notte per consentire la realizzazione dei lavori. Ancora Teramo. Cerulli 12 imprese con gli studenti. Manager di aziende come Amadori e Picchio spiegano il mondo del lavoro. All'ITI incontro con tutte le classi quarta e quinta sulle possibilità di sbocchi professionali nell'industria. Finti atti osceni in classe. Indagini interna al Crocetti. Scherzo a una ragazza. Poi bimbo sparito, risentita la madre. Ancora Teramo. Tendone e sedia di bar all'aperto. Il comune detta le nuove regole. Poi a Teramo Rotari. Una serata tra jazz e storia. Fumo, patron del Festival di Pescara, racconta l'incontro con i big, ma anche la vita a Teramo, nel famoso bar fondato dai genitori. Al Badriatica, Martinsicuro, Tortoreto, la costa nord, tenta di corrompere il maresciallo. Arrestato Sant'Egidio, commerciante in manette, era stato trovato ubriaco alla guida. Poi rapina un negozio, Marocchino in manette, questa civitella. Martinsicuro, la sinistra, chiude le porte all'UDC. Avviso al PD. Niente inciuci con l'attuale maggioranza. A Giulianova, ancora, aggredisce Carabiniere e butta fuori. Giovane incensurata di Mociano, arrestata all'uscita del Nova Vita. La ragazza ubriaca, prima infastidisce alcuni frequentatori della discoteca, poi si scaglia sui militari. Il centro storico chiede più controlli contro i Rom. Nasce un consiglio dei residenti e sottolinea i problemi di sicurezza, viabilità e parcheggio. Ancora Giulianova, cominciano i lavori sull'Adriatica. Poi Silvi Valeriani, cacciato senza motivi, il cittadino assessore accusa il sindaco. Non me l'ha neanche detto, forse davo fastidio perché pensavo che me ne sarei stato zitto e buono. Poi a Roseto il GIP ordina indagate sul dirigente Patacchini. Roseto si riapre l'inchiesta sul capo del settore edilizio urbanistico del comune. Ancora Roseto, appello per i consigli di quartiere. Raffaella del PD a Roseto, più donne nelle istituzioni. Andiamo adesso a sfogliare le pagine sportive. La prima divisione, il Lanciano, tre novità alla Spezia. Oggi debutto dei rossoneri al picco. Rientra nuovamente a Massoni e Chirico. Il Chieti, la seconda divisione, il Chieti sfida l'attacco più prolifico del Girone. Domani la difesa nero-verde contro il capo cannoniere Fioretti e l'attaccante del Gavorrano. Giulianova invece è impegnato contro l'Isola Liri, in trasferta. Che però ha cambiato il tecnico perché è arrivato Cianni Manico al posto di Grossi. Giulianova che avrà però problemi di formazione. Ancora la seconda divisione, Capparella. L'Aquila pronta al Tour de Force. Il centrocampista serve continuità di rendimento per arrivare alla promozione. Castello, intanto Castello Rosetana è stata rinviata, tantissime le partite che sono state rinviate. E oggi c'è l'anticipo tra Sant'Egidiese e Atessa. Ovviamente si parla anche dello sport nazionale perché ci sono... Domani tra l'altro c'è il big match per lo scudetto, insomma, per il primo posto tra il Milan e la Juventus. Comunque il basket, eccoci qua. Domani la banca Tercas impegnata contro la Canadian Solare a Bologna. Poeta, ex di turno, i crediti possono aspettare. L'ex rinuncia all'azione legale contro Teramo per gli stipendi arretrati. Domani Biancorossi a Bologna, la banca Tercas dà il via libera per sbloccare 540 mila euro. E c'è la foto di Lino Pellecchia. Poi Teramo in campo BLS Globo e San Vito. Vediamo se ci sono altre notizie. Non ci sono altre notizie per quanto riguarda la nostra provincia, però una la vogliamo leggere perché si tratta della Pallamano. C'è Serafino Labbrecciosa impegnato con le sue ragazze nella Leader Coppa. Pallamano, Elite A1, donne, impegni terribili per le due formazioni terramane. Ricordiamo che la tecnologia elettronica nella ad Elite affronterà in trasferta il Conversano, mentre la Leader Coppa Teramo le ragazze affronteranno in trasferta il Sassari, che però è stato già battuto. E poi c'è la notizia che riguarda il Pescara. Crollo bianca-azzurro, la regina vince. La Serie A si allontana. Brutta prestazione ieri per gli uomini di Zeman. Finisce qui il quotidiano Il Centro. Adesso invece sfogliamo il settimanale diocesano Laraldo Abruzzese. Eccoci qui la prima pagina, il titolo a tutta pagina. Vedete anche la nuova veste grafica del settimanale. Violenze, dolore di donna. C'è poi l'editoriale del Vescovo, Sua Eccellenza Michele Seccia. Si parla di quaresima, una quaresima di carità. All'interno troviamo altre notizie. Quella principale ovviamente parla della violenza sulle donne, quando il mostro ti cambia la vita. il riferimento e soprattutto agli episodi accaduti a Pizzoli e a Nereto. Infatti due donne violentate a distanza di due giorni all'Aquila e Nereto nel Terramano. Cosa scatena tanta violenza e come superare il trauma, ma soprattutto come comportarsi nei confronti di questi violentatori? Questa è una domanda anche legittima perché a volte il massimo della pena potrebbe anche non essere sufficiente. Poi a colloquio con la sociologa Giulia Paola Di Nicola contro gli abusi, l'importanza della prevenzione come forma di educazione, il ruolo della società, della politica e della scuola all'interno. Un'economia per tutti, altre notizie, poi la nuova veste grafica dell'Araldo è interessante perché il periodico, il settimanale è certamente più funzionale, più accattivante. Si parla di cultura, si parla ovviamente delle iniziative della Chiesa, della Diocesi, tante notizie, poi c'è anche l'attualità, poi il calvario delle primarie, e l'osservatorio quando la confusione e il disagio regnano sovrani. E c'è l'editoriale di Pietro Di Benedetto, sempre molto attento e puntuale nell'analisi che riguarda il periodo specifico. Ancora notizie, teatro romano, si parla anche del teatro romano, la guerra dei reperti, spostare o no le pietre, continua il braccio di ferro tra l'amministrazione comunale e la sovrintendenza da una parte e l'associazione Terra Monostra dall'altra. Poi Mociano Sant'Angelo, la semplicità del bello, una ferita da rimarginare a Tortoreto, l'iscrizione nel registro degli indagati di un funzionario dell'amministrazione comunale con l'accusa di peculato, di missioni accettate, rischio a suefazione. Poi si parla anche del maltempo, si parla del maltempo, l'analisi dei territori, ovvero le spese che i comuni dovranno affrontare. Si parla anche dello stadio Fadini, Fadini chiude le porte al pubblico, la commissione di vigilanza sugli spettacoli revoca l'agibilità, manca un adeguato sistema antincendio secondo la normativa 2011. Bene, noi ci fermiamo con la nostra rassegna stampa, oggi è stata piuttosto lunga, abbiamo proposto anche il settimanale diocesano Laraldo Abruzzese, tra poco inizieremo la chiacchierata con i nostri ospiti per questo sabato di febbraio, e alle porte c'è la primavera perché stamattina un'alba straordinaria. Tra poco. Eccoci qua, di nuovo, buongiorno Manola Di Pasquale, avvocato, buongiorno, consigliere comunale a Teramo, tante iniziative da parte del PD o comunque di battaglie per contrastare o collaborare con l'amministrazione comunale. Una opposizione costruttiva o solo una opposizione che fa critica, Manola? Una opposizione che fa critica, ma fondamentalmente una critica costruttiva, perché abbiamo fatto tante battaglie che poi hanno portato a dei risultati, pensiamo sulle tasse, cioè quello più accadente fondamentalmente è un passo carrabile, dove abbiamo fatto certamente delle critiche, ma anche delle iniziative, come tante altre questioni che abbiamo trattato in Consiglio Comunale, dove noi cerchiamo sempre di fare critica dove c'è da fare, ma poi di dare anche una controproposta. Non sempre queste nostre proposte vengono riconosciute nell'immediatezza, ma a lungo termine poi apprendiamo che forse se ci avesse ascoltato prima il Sindaco avremmo affrontato situazioni con più leggerezza, con più facilità. Parliamo della vicenda anche che riguarda un po' la TEAM, insomma questa situazione sia per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti sul territorio, sia per quanto riguarda l'organizzazione interna della TEAM, e anche per ciò che concerne la vicenda dei cimiteri loculi, perché se da un lato la TEAM ottiene dei giudizi favorevoli sulla raccolta nel servizio del porta a porta a Teramo, però ci sono giudizi negativi o comunque delle critiche che riguardano l'area cimiteriale. Ma guarda, le due cose sono distinte, innanzitutto sono due affidamenti distinti che hanno anche delle convenzioni diverse, quindi è chiaro che poi la gestione dei servizi vengono fatte con riferimento anche ai tipi di convenzioni che sono state fatte con il Comune, premesso che entrambe gli affidamenti dei servizi sono affidamenti diretti, su cui noi abbiamo molto avuto a che ridire, perché siamo sempre stati dell'avviso che per legge è necessario fare un appalto pubblico, ma a parte la violazione di norma, far partecipare più persone, è possibile avere un miglior servizio, e quindi parliamo in questo caso di servizi probabilmente anche a costi inferiori, perché mettendo in concorrenza più società che vogliono partecipare in una gestione, è possibile individuare quella che fa il servizio migliore spendendo di meno. Questa possibilità i cittadini terramani non ce l'hanno avuto, speriamo che riusciamo, nella nostra cosiddetta opposizione costruttiva, riuscire a far ripristinare questa situazione di irregolarità. Sulla gestione dei rifiuti che viene fatto a Teramo, che è una gestione discreta possiamo dire, perché fondamentalmente l'organizzazione del servizio, come abbiamo visto, funziona, tra virgolette, ha delle falle che possono essere ripristinate, ma funziona perché ha dei costi elevatissimi, perché noi non ci dimentichiamo che paghiamo, si abbasserà, non lo so, ancora non guardo, il piano economico finanziario che andrà in approvazione martedì, e quindi lo guarderò con attenzione durante questo weekend. Però già lo sappiamo dai costi che abbiamo sempre letto, che la gestione di questi rifiuti a Teramo è altissima, quindi è chiaro che se io spendo moltissimo per gestire tantissimi carretti, come li chiamo io, che girano per la città per raccogliere il rifiuto, con gli operai, ovviamente tantissimi che girano, che siedono e che sanno, cioè ha una struttura organizzativa per la raccolta del porta a porta molto complessa e anche molto onerosa, perché tutte queste cose hanno dei costi, il personale ha dei costi, il carburante ha dei costi, l'anno scorso c'è stato l'aumento della TIA, del 14% più o meno. Sì, l'anno scorso c'è stato un aumento molto alto, oggi da quello che ho letto, perché come dico, non leggo gli atti, parrebbe che il sindaco riuscirebbe ad abbassarlo, parrebbe, perché ovviamente non l'ho visto ancora, quindi probabilmente il cambio idea, quando vedrò questo piano economico e finanziario, che ne riesce ad abbassare per il recupero delle, diciamo, inadempienze degli anni precedenti sulla TIA. Diciamo delle sacche di evasione. Io vado a non parlare di evasione, perché parlare di evasione sulla TIA è veramente, secondo me, c'è sempre il furbetto di turno, perché ovunque e in qualsiasi settore ci sono sempre i furbetti che cercano di non farsi conoscere dal comune o dall'erario per non pagare il dovuto. Però quando parliamo della TIA, che è una tassa comunale sulla raccolta dei rifiuti, possiamo dire che per la stragrande maggioranza se la TIA non è pagata è che perché probabilmente persone hanno difficoltà economiche, perché se noi pensiamo che oggi nelle famiglie molti sono disoccupati, quindi hanno uno stipendio con figli che studiano, io che sono una madre che devo gestire la famiglia, sicuramente penserò prima di comprare il pane, perché devo mangiare, poi cercherò di pagare le utenze, perché senza acqua, luce o gas ovviamente non posso vivere e le tasse stanno in fondo. Diciamo che l'ordine delle priorità... Per quanto dobbiamo pagare praticamente la tassa dei rifiuti, i soldi sono finiti e quindi non li paghiamo. Perché l'ordine di priorità, poi se diamo delle priorità, mangiare, figli e poi viene tutto il resto. Tutto il resto, è chiaro che se io alla fine del mese i miei stipendi è finito e devo pagare la TIA, non la pago, anche perché sulla TIA non ho fondamentalmente la perdita, che ne so, che mi vengano a tagliare, come diciamo sempre, la luce, il gas, no, l'ho pagata. Ma potrebbe arrivare l'Equitalia poi? Sì, sì, arriverà l'Equitalia, ma se tanto io sono in affitto, ho tre figli, non sono stipendio, mi si pignorerà un window dello stipendio, ecco, mi farà un fermo di una macchina. Però questo, ecco, questo, la lettura va fatta, la lettura va fatta, perché quando si inizia un recupero degli arretrati, di quello che non è stato pagato, è chiaro che vanno, come dico io, mazzolati, chi fa i furbi, perché io sono contraria a chi non paga le tasse, ma va però valutato se il fenomeno è maggiormente collegato a un momento di difficoltà dei cittadini, perché anche questo va valutato, perché non si può, siccità sempliciter, trasmettere all'Equitalia e far partire quella macchina infernale, che secondo me dovrebbe essere rivista e che crea molti disagi alle famiglie. Il comune, cioè una pubblica amministrazione, oggi parliamo di TIA, quindi di comune, dovrebbe capirlo, il fenomeno, sì, recuperare, perché è giusto che si recuperi, ma cercando di non massacrare ulteriormente di queste famiglie che sono già gravate da tante difficoltà, quindi va comunque fatta una valutazione, non si può dire eh ma si gli evasori, no, una parte sicuramente saranno i furbetti, però oggi, soprattutto la provincia di Teramo, come sappiamo, è la provincia che ha perso più attività economiche e che c'è più disoccupati, molti casi migrati. E questo come si spiega? Sulla provincia di Teramo, sì, perché Teramo paga così tanto questa crisi? Sicuramente la crisi di questo è la crisi della politica, perché come sappiamo lo sviluppo dei territori prevedono anche da programmazione politica a lungo termine, certo non è che parliamo dei politici di oggi, parliamo di un'attività politica degli ultimi 15-20 anni, quindi che ne so, la previsione anche delle zone industriali, di prevedere degli sgravi comunali, sulla TIA, sulle imposte che si pagano per favorire gli accessi di zone industriali. Guarda, io posso dire che è passato qualche tempo fa nel mio studio un industriale che è un mio amico che non è di qua, che però voleva aprire un'azienda importante, non dico in che cosa perché siccome è così particolare il settore perché si capirebbe chi è, che ha tentato di aprire un'azienda nella provincia di Teramo, nel comune di Teramo, ci ha rinunciato, ha detto per me è impossibile, è impossibile trovare il lotto, è impossibile quello che devo pagare e i temi dell'amministrazione e quello non ti risponde, quello non sa, ci ho rinunciato ed è andato in un altro comune, proprio perché non ha trovato né l'economicità né la facilità amministrativa per poter accedere e allora questo va sicuramente studiato perché noi impediamo a persone di aprire l'azienda da noi e l'azienda è un po' di ricchezza, un po' di economia ma anche occupazione, soprattutto occupazione perché un'azienda che arriva un po' di respiro è un'azienda che arriva quando più poco vuole avere gli operai ma insomma parte sempre da una ventina di operai e quindi credo che quella situazione che oggi abbiamo noi nella provincia di Teramo nell'industria, nel settore economico e anche artigianale è dipesa da una serie di attività politiche sbagliate o di mancata programmazione e anche di mancata ingesività perché io posso avere anche pensato una programmazione bellissima per il nostro territorio poi però non ho l'ingesività politica che mi aiuta a portare avanti questo progetto e a discapito di altre province che possono invece aver avuto più opportunità. C'è una crisi economica radicata, siamo in recessione non riusciamo a recuperare nemmeno i soldi dell'alluvione ho detto tutto situazione che peraltro si è aggravata anche con il mal tempo è un disastro non siamo stati in grado di far arrivare niente qui neanche per l'alluvione ora spero che questo effettivamente quanto meno per la seconda parte di questa catastrofe territoriale che è riguardata la neve tra l'altro tra poco la prossima settimana ricorrerà un anno dall'alluvione del primo marzo quindi del 2011 Siamo con i terremoti di alluvioni di acqua e di neve voglio dire abbiamo di tutto questo abbiamo avuto tutto in questo periodo Allora dicevo c'è una crisi radicata siamo in recessione lo dicono anche gli analisti insomma è una situazione economica difficilissima meno soldi nelle tasche degli italiani delle famiglie quindi non si spende Io sono all'ora del PD che è molto fiducioso nel governo Mondi quindi No no ma volevo chiedere questo c'è ad esempio chi guarda anche un po' più lontano e dice da qui da oggi a vent'anni la ripresa sarà difficile ma davvero ci sono questi tempi lunghi per poter ripartire? Guarda quando uno fa una previsione sembra che pensa in vent'anni ma poi può darsi che le attività che uno può in essere ti dà delle risposte invece prima a un meglio termine certo che se però non metti in moto una macchina una programmazione come dico io politica economica con delle riforme che io ritengo che il governo Mondi stia facendo e che stia facendo anche bene e che sono necessarie ma perché il governo Mondi sta riuscendo perché è un tecnico cioè perché quindi la politica ha fallito voglio dire io faccio una considerazione sì secondo me e lo dico onestamente anche se sono un politico il governo Mondi rappresenta il fallimento della politica fondamentalmente perché perché è da tempo che si parla perché sicuramente in mezzo tra coloro che amministravano c'erano persone che erano in grado di capire di che cosa aveva bisogno l'Italia in un certo momento storico non dico il 2011 sicuramente anche prima del 2011 poi dopo però non si riusciva ad attuare perché il gioco politico è il fatto che un'attività politica di un governo è collegato a dei sondaggi che guardano la preferenza di quel partito è chiaro che tu non fai mai delle cose che sono negative perché è chiaro che un popolo vai a fare delle scelte che vanno a toccare che ne so i loro interessi i loro begni fa rumore è normale questo è la normalità della vita ma se di fronte a un rumore di un popolo perché vuoi fare delle attività che vanno un po' a modificare un assetto economico o di categorie e tu ti fermi perché perdi il consenso perché sei un politico collegato al partito al consenso e colleghi la tua attività solo a quello perché questo è l'errore solo a quello è chiaro che non le puoi fare perché quello che sta facendo il governo Mondi e che ha fatto in 100 giorni i nostri politici e parlo destra e sinistra e sono stati in grado di farlo in 15 anni ma perché? ma perché c'è questa questo diciamo degenerale degenerale dell'attività politica che ha determinato l'impossibilità di farle queste riforme per cui è necessario che comunque si avviano e che poi siano portate a conclusione ma è il meglio che potevamo avere sicuramente non sarà la perfezione ma sicuramente in un momento storico come questo le persone che abbiamo al governo secondo me rappresentano il meglio che possiamo offrire poi se si guarda lontano si diceva ma quello è meglio dell'altro però è il meglio che possiamo offrire e credo che quello che stanno facendo anche con questo dibattito questo confronto per cercare di migliorare le normative ci possono aiutare a fare questo che tu hai detto prima una programmazione politica economica e anche lavorativa del settore perché va un po' svecchiato noi siamo l'Italia è una vecchia l'Italia come nazione è il vecchio continente posso dire una cosa però l'Italia come nazione è una nazione giovane perché ha 150 anni è bella a molte qualità però dopo diciamo però poi ha i rappresentanti cioè i governanti diciamo che sono un po' compassati buongiorno avvocato cosa ne pensa lei di Via Longo non so se ha letto i giornali le voglio far cadere le vogliono far cadere forse le case dicono credo di sì sì per la questione guarda io non ho guardato il progetto è una cosa che mi è riservata di fare di andare a guardare proprio i progetti perché per capire come vengono fatti bisogna guardare i progetti io sono dell'avviso che Via Longo è l'incresso della città di Teramo anche chi ci abita lì voglio dire veramente nel 2012 va assolutamente un'area riqualificata ma anche per dare delle risposte vere a coloro che abitano in quelle in quell'abitazione oltretutto io posso dire che Via Longo da bambina ci ha giocato perché abitavo alla via di sotto di Via Longo quindi per me è la mia infanzia quella via e quel quartiere è anche un quartiere che una volta poteva essere considerato tutto quel quartiere da sotto da Via Ponte San Giovanni a Via Maestria e Lavoro a Sopra fino a Via Longo è un quartiere che una volta era considerato un quartiere periferico tanto che ci sono le case cosiddette popolari ma oggi è il cuore della città quindi se noi vogliamo essere Via Longo considerarci come il centro di una città deve essere riqualificato come però stiamo attuando questo percorso è chiaro che è l'aspetto più importante perché bisognerebbe cercare di riqualificare una zona cercando di dare meno problematiche ai cittadini che ci abitano e venendo in contro anche coloro che non possono acquistare perché io so che lì stanno facendo delle proposte per coloro che possono poi riacquistare delle case e chi invece non può perché ovviamente in tante case popolari parliamo di famiglie che hanno sempre avuto un reddito molto basso negli anni e che sono oltretutto oneste perché è chiaro che se io sono stata onesta perché ho mantenuto il mio reddito basso e per questo sono rimasta dentro una casa popolare non è che per questo io adesso devo essere diciamo trattato diversamente rispetto per coloro che per fortuna hanno migliorato il loro rivendo di redditoalità e possono permettersi una casa anche acquistarla ecco forse qui c'è una cosa d'attenzione è chiaro che io penso che se non si pensi a delle graduali sbottamenti di palazzine con spostamenti delle persone è impossibile riqualificare quell'area perché una riqualificazione deve essere fatta quando bisogna fare dei lavori bisogna anche spostare le persone e credo che va fatto un tavolo molto attento serio mi sono promessa di andarla a guardare perché ancora non abbiamo realtà atti ufficiali di andarla a guardare capire bene come si sta attuando come si attua concretamente poi la riqualificazione di questa zona perché se si può migliorare noi siamo a disposizione anche per dirlo perché potrà essere che degli aspetti non sono stati valutati se ci sono le porteremo all'attenzione dell'amministrazione per farle valutare noi la posizione poi a questo ruolo stiamo a disposizione però io credo che vada riqualificata perché quando entriamo nelle città è un bigliettino da visita a Villa Moschia è andata via l'acqua ma cosa succede al Ruzzo? io perché è andata via l'acqua non so io credo che ci sia un abbassamento delle falde una riduzione per le temperature e questo crea problemi al sistema idraulico di approvvigionamento credo che sia questo proprio una questione di menamento organizzativo anche perché il problema riguarda anche la costa c'è un problema ovunque con l'acqua in questo momento il problema è che quando non piove c'è il problema dell'acqua perché si cita quando piove c'è il molto freddo c'è il problema perché si ghiacciano c'è un sms allora come posso essere evasore se non produco spazzatura in quanto non abito nella mia casa di Teramo da anni? grazie ecco questo come si spiega? questo è un problema questo è un problema che esiste da tempo perché perché la spazzatura è collegata alla a due in realtà la tassa perché quando noi parliamo di tariffa la tassa ma questa in realtà è la tariffa non abbiamo a Teramo c'è la tassa allora io voglio dire questo quando paghiamo di una tassa per capirlo brevemente perché è complessa la materia quando parliamo di una tassa la tassa in realtà noi la paghiamo perché ci devono dare dei servizi ed è generalizzata quindi si paga sempre tutti la pagano e poi la paga di più che ovviamente produce l'immondizia perché parliamo di un servizio generalizzato per cui la tassa e la divisa è una parte fissa e una variabile cosa che rimasta nella tariffa che sarebbe la TIA che dovrebbe essere pagata in base alla quantità reale di rifiuto che si vengono a produrre tant'è vero che è nata tutta quella questione sull'IVA se c'era non c'era perché poi cambia se tassa no l'IVA ecco però in realtà è sempre collegata ad una parte che riguarda l'immobile cioè la proprietà quindi c'è sempre un minimo che è un fisso che va pagato che è collegato alle famiglie al numero dei componenti e poi alla proprietà e poi c'è una parte più ampia che viene pagata che riguarda l'immondizia è chiaro che i comuni fanno dei giochi su quanta parte va debitata al fisso tra virgolette che riguarda l'immobile quando invece va collegata alla quantità del rifiuto che io produco più sposti questa linea più paghi quindi a Teramo in realtà è meno collegata possiamo dire per farci capire ma è molto più complesso il calcolo a realtà la quantità del rifiuto che produco perché è impossibile pesarlo detto tra noi ed è meno collegata a questo è più collegata a tutti gli altri settori che l'immobile la proprietà le persone eccetera e questo genera è una tassa mascherata guarda in realtà è una tariffa ma come dicono ecco perché c'è stata tutta quella questione che l'Europa che diceva no voi il fatto dell'IVA deve essere collegato no perché in realtà non è una vera e propria tariffa ma è una tassa e quindi essendo una tassa l'IVA non la devi non la devi pagare quindi c'è tutto un problema complesso su questa materia perché si camuffa una tariffa che invece dovrebbe essere collegato alla quantità di rifiuto vero che si produce e poi se questo rifiuto è bene riciclato quindi è chiaro che io dovrei pagare di meno perché dovrei pagare quello che poi va veramente in discarica e non quello che io recupero cioè come il vetro il ferro la carta eccetera è chiaro che la TIA quando fu fatto nel decreto Ronchi che fu introdotto per la prima volta la tariffa fu introdotta perché era un vantaggio per il cittadino perché la tassa tu la paghi a prescindere di quando produci di rifiuto mentre la tariffa è collegata alla quantità di rifiuto quindi il decreto Ronchi disse siccome ci avviamo ad una forma di differenziata perché questo deve essere il futuro e parliamo di dare diciamo secondo me un legislatore l'epoca fu un legislatore abbastanza illuminato siccome ci avviamo ad una forma di recupero più ci avviciniamo al recupero del rifiuto quindi meno rifiuto facciamo perché lo recuperiamo ed è giusto che i cittadini paghino di meno allora nel momento in cui i comuni riescono a raggiungere dei livelli di recupero alto come diciamo noi che abbiamo una differenziata a 70% ma poi in realtà è un po' più bassa quando si arriva ad un recupero alto dice il comune deve passare dalla tassa alla tariffa perché dice perché la tariffa dovrebbe essere conveniente per i cittadini poi però siccome sulla tariffa ci vanno collegati anche altri costi che non è il rifiuto e che tutta questa organizzazione del sistema per la raccolta e smaltimento dei rifiuti e il trasporto in discarica del rifiuto tutta questa macchina più consumo nell'organizzazione aziendale che serve per raccogliere il rifiuto più io pago perché è tutto collegato lì quindi è collegato il rifiuto è collegato il consiglio dell'amministrazione sono collegati tutti questi carretti che girano per la città il carburante il costo del personale tutte queste voci costituiscono che viene divisa in parte sulla quantità di rifiuto ipotetico che io produco in parte collegato alla proprietà per questo busero non ci abito pago quindi abbiamo dato una risposta c'è il caso di spiegarlo in maniera molto semplice buongiorno a tutti in particolar modo a Silvia ma non a Di Pasquale perché così fiduciosi del governo Monti quando è evidente che ha anticipato la recessione che stiamo vivendo la recessione non è del governo Monti perché la recessione nasce da una storia economica di un paese però è anche vero che chi diceva che i ristoranti italiani erano pieni insomma poi alla fine non era così e io ribadisco probabilmente sono piene le menze della Caritas io voglio dire questo allora l'Italia ha avuto diciamo la recessione nasce da un vendegno di attività diciamo non sbagliate o non fatte perché questo è non è che nasce la sera per la mattina però quando come un'azienda facciamo finta che l'Italia è come un'azienda che ha delle difficoltà economiche così è più facile capire da una famiglia se io continuo ad avere delle difficoltà economiche ma continuo a non capire o comunque non affrontare il problema della mia azienda che c'è delle difficoltà economiche che ne so troppo alto le materie prime che compro oppure ho troppo personale in base a quello che produco ci sono degli elementi che mi determinano il debito se io non affronto questa situazione non dico devo licenziare o devo togliere quel mio fornitore che è vent'anni che mi fa mi sono affezionato ma devo trovarle uno che mi dà la materia prima che costa di meno se non decido mai di affrontare questi argomenti di portarlo sul tavolo di un consiglio di un'amministrazione di un'azienda e di risolverlo per quanto mi costi perché gli operai mi sono affezionata tutto quello che può essere perché uno può anche non togliere e fare dei sistemi diversi di organizzazione di un'attività lavorativa ma devo affrontare il problema e lo devo risolvere è chiaro che andiamo dentro a Baladro cioè arriviamo a dove è arrivata la Grecia che però non ci arrivava nel 2012 forse l'Italia arrivava ad essere Grecia nel 2050 ma lì andavamo se non interrompi un percorso che va quindi la recessione era in atto il governo precedente non era in grado di poter fare niente e non eravamo in grado neanche noi del PD di farlo tanto che non siamo andati al voto quindi nessuno era in grado di farlo non lo era perché a parte le qualità che potevi trovare anche dentro i partiti perché anche i partiti hanno persone di qualità o professori che sono in grado ma è l'aspetto che il politico e il partito è collegato al consenso il governo che chiamano tecnico ma che sarebbe il politico trattino tecnico non collegato al consenso può fare anche quelle scelte come togliere in un'azienda quegli operai a cui tu sei affezionata perché ci hai vissuto insieme una vita oppure ridurre lo stipendio a questo operaio oppure togliere un fornitore che 20 anni che ce l'hai sia amico ma ti vende la materia prima al doppio e tu non puoi più sostenerlo e fare queste scelte che ti dispiacciono ma che devi fare mentre per il politico il consenso per un'azienda sarà una questione affettiva ho fatto questo esempio per farlo capire ma è identico perché questo portare avanti una situazione debitoria e non affrontarla ti porta poi nello stato cosiddetto di decozione che è lo stato pre fallimentare e poi il fallimento quindi il percorso è lo stesso per un'azienda e per lo stato il discorso che riguarda la Grecia parte molto più da lontano la Grecia ha avuto difficoltà già io quando sento parlare di Grecia e Italia in realtà la Grecia sono diverse sono diverse per storie per economie per risparmi per ricchezza di famiglie sono completamente diversi la Grecia è stata sempre considerata una nazione povera io penso l'Italia sempre come un'azienda ricca che non sa gestire i suoi averi la Grecia è un'azienda povera si era ipotizzata tra poco leggeremo l'SMS si era ipotizzato ad esempio la Grecia ritorna alla dracma sarebbe stato un dramma per i greci perché il ritorno alla vecchia moneta significava dunque uscire dall'Europa ma poi affossarsi completamente perché non avrebbe avuto ma poi avrebbero determinato una cosa complessa sono poi in situazioni in cranaggi molto complessi che sono collegati l'uno all'altro sono collegati alle nazioni è chiaro che quando io parlo c'è cos'è di esprimere i concetti con molta perché ci ascolta non comprende però in realtà il meccanismo i sistemi sono molto più complessi e io mi ricordo abbiamo rimasto in una trasmissione quando il ministro che mi sfugge il nome che fece la legge contro il fumo nei ristoranti te ti ricordi fu fatta quella legge che nei ristoranti nel cinema già non si fumava nel cinema nei ristoranti nei locali pubblici non si poteva più fumare fu fatta una rivoluzione nei sondaggi questo stava a zero quindi fece una scelta veramente nell'immediatezza ovviamente che non gli portava consenso ma a lungo termine gli avrebbe comunque portato consenso ma il problema è che comunque non riusciamo ad avere il lungo termine nel voto perché si vota nei 2-3 anni o nell'immediatezza quindi tutti pensano ma adesso questo è negativo e non lo fa lui fu coraggioso e devo dire oggi io penso che nessuno di noi vorrebbe tornare indietro tutte queste riforme che parliamo del lavoro delle pensioni di cui si discute sui cosi sociali sono delle riforme che incidono in questo momento sulla vita delle persone del lavoratore e l'articolo 18 un po' ti parlo dell'articolo 18 cosa dico io dell'articolo 18 però nell'immediatezza noi pensiamo che possono non essere ma ci dobbiamo fidare di chi le fa perché servono nel lungo termine chiaro sull'articolo 18 velocemente così poi leggeremo l'altro sms perché ho dato già l'articolo 18 io faccio l'avvocato ho fatto anche delle cause c'è una in corso sull'articolo 18 in realtà le cause sull'articolo 18 sono pochissime che significa che sono pochissime che quando ci sono poche cause vuol dire che oramai queste situazioni non ce ne sono non si generano sono occasionali queste cose in realtà è un'icona in realtà l'articolo 18 è come un'icona come un principio generale della storia del lavoratore è come dire tu vuoi togliendo questo principio togliere questa storia questa battaglia come un principio che nasce da un percorso di storia fatta nel mondo del lavoro ma oggi in realtà io sono dell'avviso che un'azienda che è un fasso problema ecco perché ci sono state delle riforme che hanno gravato molto di più sull'azienda e che hanno impedito le assunzioni delle aziende del personale sono altre norme che pesano sulle aziende oltre che l'articolo 18 che in realtà io lo metterei alla fine della discussione di un problema ma io sono sempre convinta che un'azienda oggi quando trova un operaio un professionista qualcuno che lavori che sia bravo che lavori che si sposi l'azienda come se fossi sua e che sia un lavoratore serio come si dice un lavoratore serio ma l'azienda non te lo vuole togliere mai perché è difficile che ti riesci a trovare delle persone che sanno fare quel lavoro che hanno imparato quella professionalità e dopo te lo togli perché ti sta dipatico non lo togli ovviamente perché chi è bravo resta perché chi è bravo resta cioè un'azienda cioè è il mercato che fa la selezione perché chiù ma pure io che faccio l'avvocato prendo una segretaria se una segretaria è bravissima anche se è la segretaria più antipatica del mondo cioè prima che la tolgo devo pensare io ho una segretaria terribile nel mio studio però ed è bravissima ma non la toglierei mai cioè gli mettere i tappeti sono venuta incontro se sposate voglio seguire il bambino abbiamo trovato tutte le soluzioni possibili immaginare proprio perché era e ancora oggi una bravissima dipendente io penso che quando un'azienda abbia un bravo dipendente del lavoratore difficilmente se lo spoglie perché non si trovano ecco poi non bravi qualificati più che altri in quel lavoro e poi si stavola anche un rapporto di fiducia voglio dire poi è chiaro che se nascono però dei dissidi anche personali ma anche il lavoratore penso che non abbia nessun interesse quei lavoratori che sono stati reintegrati dentro la Fiat è chiaro che loro si tendono lì dentro male che è un principio sacrosanto e che è importante la sentenza però io mi rendo anche conto sotto un punto di vista umano che questi operai quando torneranno dentro l'azienda probabilmente saranno guardati in cattivo occhio dai colleghi che invece la pensano in maniera diversa cioè è chiaro che se poi insomma il datore di lavoro ti vuole togliere si fa cosiddetto tra virgoletta mobbing e ti toglie esatto allora Sergio se leggiamo l'SMS eccoci qui come mai non viene chiarita la posizione dello studio Chiodi in consiglio comunale riguardo al crack di Pietro veramente in consiglio comunale da quando è uscita questa notizia ancora non si fa mai il consiglio comunale lo faremo martedì e non so se probabilmente parleremo di questo perché abbiamo le tariffe quindi abbiamo la questione della TIA il piano economico finanziario della TEM per cui abbiamo argomenti veramente importanti ma a parte non credo che sia un argomento di consiglio comunale ma sicuramente un argomento politico questo sì e quindi va affrontato e credo che i giornali gli abbiano dato tutto lo spazio possibile immaginabile che voto dà il PD al sindaco Maurizio Brucchi io gli do 6 meno in generale il famoso 6 meno che ti dava la professoressa quando uno studiava moltissimo perché cercava di raggiungere il suo 8 uno che non era portato a fare la matematica che studiava 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 alla fine ti metteva il 5 e mezzo e il 6 meno perché matematica non perché eri da 6 ma perché ti eri impegnato così tanto che premiava il tuo impegno ecco io gli do 6 meno perché ritengo che come attività progettuale per il futuro e dell'immediatezza in questa amministrazione c'è ben poco riconosco in Brucchi la sua dinamicità molto attivo sindaco capocantiere sì però dopo non basta questo e invece per quanto riguarda l'emergenza maltempo a Teramo tutto quello che è accaduto in seguito alla neve eccetera che voto diamo al comune sull'emergenza maltempo ci sono stati dei disservizi ovviamente che hanno riguardato un po' le zone periferiche dei quartieri però bisogna anche tenere conto che c'è stata l'eccezionalità dell'evento ma va considerato che è stato un momento di grande difficoltà perché è stato un maltempo molto eccezionale devo dire che fondamentalmente hanno risposto bisogna vedere quanto ci costa però perché io dico sempre e sempre quando uno investe tantissimi soldi fa sempre bene ok bisognerebbe riuscire a fare un buon servizio con un costo medio poi questo non lo so perché non ho ancora guardato le vere spese che abbiamo affrontato allora Sergio abbiamo il sindaco Giuseppe D'Alonzo di Crognaleto il prossimo ospite un'ultima domanda poi ce ne andiamo in pubblicità con Manola Di Pasquale il prossimo impegno invece del PD elettorale politico perché ricordiamo che ci saranno le elezioni a Martinsicuro come intende abbiamo questa elezione a Martinsicuro è certo che noi subiamo nel nostro territorio anche la confusione politica che è a livello nazionale perché noi fondamentalmente manteniamo un governo Mondi manteniamo un governo Mondi che praticamente sta col PDL e con l'UDC e abbiamo i nostri alleati territoriali delle comunali che sono generalmente il centro sinistra e che Italia dei Valori Selle e gli altri che sono i nostri fondamentali alleati storici che stanno in opposizione con noi al governo contro di noi al governo quindi è molto complesso riuscire a fare degli accordi politici tenendo presente la situazione politica che c'è e questo un po' anche ovviamente le elezioni che abbiamo anche il momento storico che sta vivendo il nostro paese poi bisogna tenere conto quello sì sì ma è il momento storico anche perché secondo me in questa prima fase di amministrative perché poi tra un anno avremo una seconda fase di amministrative e si comincia a modificare un po' io penso gli assetti politici che esistevano prima io credo che dopo questi più ultimi percorsi dei prossimi due anni cambierà molto avvocato abbiamo il concorsone che fine ha fatto allora molti sms velocemente Sergio così ma vado sintetica il concorsone che fine ha fatto il concorsone è indagato dalla procura e quindi quando c'è un intagno della procura non è che noi possiamo andare a guardare le carte amministrative io mi sono preoccupata di far sospendere le assunzioni a tutela di tutti coloro che avevano partecipato e che inviterei a fare ricoste al TAR se ritengono che ci sono delle irregolarità amministrative perché se non si fa ricoste al TAR quello diventa definitivo andiamo avanti buongiorno buongiorno ma non la sindaco è una di noi e per strada saluta sempre tanto noi facciamo i primari quindi si vedrà in un secondo momento successivamente ancora Sergio buongiorno comunque grazie perché è una nota di stile è chiaro buongiorno avvocato ma ha visto in che condizioni si trova il lungo fiume alberi caduti impediscono l'accesso cosa fa la TEAM ecco la TEAM sul lungo fiume credo che ce l'abbia marginalmente perché c'è questo progetto del comune che era quello di voler affidare il lungo fiume a pezzettini a vari privati con la possibilità di gestire delle aree che non so però se poi ha avuto tutto questo successo se c'è una richiesta del privato di poterlo gestire è chiaro che la soluzione del lungo fiume deve essere risolta e credo che possa essere anche risolta tenendo presente tutta la questione che riguarda queste cooperative sociali che stanno sul terreno e che gestiscono anche i parcheggi io credo che se si guardi con attenzione noi abbiamo degli enti e delle associazioni delle cooperative già presenti nel nostro territorio che potrebbero anche marginalmente occuparsi del lungo fiume che merita merita di essere qualificato perché secondo me è una cosa bellissima chiederemo allora cerchiamo di essere più brevi nelle risposte allora le sembra giusto che dopo 60 anni ci diamo delle case ci diamo forse per loro dignitose ma senza balcone e senza fonda ma questo forse parla di Longhi credo di sì ma anche noi paghiamo le tasse e questo è la risposta e questo è quello detto prima è chiaro che va valutato poi e non è giusto bisogna vedere cosa si ottiene e dove si ottiene anche perché uno è abituato a vivere al centro soprattutto un anziano per favore faccia riattivare i semafori in via Po pericoli mortali sì sì ma io penso che via Po comunque siano interrotti perché sono i lavori è una questione di lavori ce ne sono altri ma che fine hanno fatto i rimborsi di chi ha pagato i passi carrai allora prima di tutto dopo chi doveva avere rimborso perché non doveva pagare il passo carrabile deve fare distanza per avere rimborso e bisogna chiederlo fai distanza chiedi perché nel regolamento che abbiamo fatto è scritto c'è una norma in cui è scritto che tutti coloro che hanno pagato i passi carrabili e che non doveva pagarlo prima del regolamento ovviamente può chiedere rimborso quindi basta fare una domanda di rimborso che è un prestabbato che si trova anche credo sul sito del comune gentile avvocato a me le piace tanto perché la vedo fuori dal classico politico lei potrebbe essere di qualunque partito io veramente mi considero una moderata laica perché sono accendosinistra comunque in realtà sono cattolica come sta raccogliendo consensi allora andiamo avanti ci sono altre piazza Aldomoro è diventata un rimessaggio per campere è un vc per cani ma chi controlla piazza Aldomoro è quella che sta in mia fondo regina dove stavano i parcheggi o quella della piazza Aldomoro non mi ricordo qual è se è quella che sta vicino alla fine di via fondo regina o quella dove sta non lo so adesso comunque lo controlliamo ce ne sono altri di sms Serge ma perché dovrei votare tra un anno i politici sia di destra che di sinistra che hanno causato la recessione però l'avvocato Manola Di Pasquale ha dato la risposta alla recessione non è causa non è causa di un anno di due anni parte da sbagliate politiche da omissioni perché anche un'azienda non è che vengono in mente all'oggi al mattino è un percorso sì 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 ci sono altri sms Sergio buongiorno volevo chiedere all'avvocato come ex Margherita di cosa ne pensa della questione guarda posso dire che io mi volevo costituire parte civile perché io nelle ultime elezioni politiche mi sono candidata dietro marini al senato e le voti che ho portato sono i voti in base ai quali poi sono stati dati rimborsi alla Margherita nazionale che lui si è impossessato quindi le rivolrei sono veramente non mi esprimo perché per me sono cose inimmaginabili è giusto pagare tale tassa per ogni immobile che si possiede anche se in comuni diversi ma residenti in uno solo chi è proprietario di più immobili in diversi comuni quanta immondizia produce? abbiamo detto prima magari fosse collegato realmente alla quantità di immondizia prodotta e al recupero che facciamo perché questo è l'obiettivo perché non è fare non è l'obiettivo arrivare a un 70% di differenziata che pure conta perché è per l'ambiente ma è poi che il 70% non ci faccia pagare all'immondizia perché se discarica va l'1 pago per 1 ma se va 10 pago 10 quindi è tutto è gestire è una gestione aziendale allora vediamo l'Italia è come un'azienda il costo delle materie prime è troppo alto il numero dei dipendenti ed il loro costo è sorbitante si parla di sondaggi e indice di gradimento ma lei non ha forse sbagliato partito sono sicuro che sarebbe ben accolta nel PDL qui qualcuno essendo una moderata è chiaro che i moderati il PDL è costituito per una gran parte dei vecchi democristiani a parte la socialista e noi invece siamo costituiti dai vecchi democristiani e là la più di sinistra quindi è chiaro che chi parla un linguaggio moderato non parla per il PD e il PDL il linguaggio è lo stesso abbiamo qualche altro sms Sergio? ok noi ringraziamo l'avvocato Manola Di Pasquale che ha animato vi ho anche fatto delle nozioni giuridiche adesso vado a fare lezioni invece fuori esatto perché lei adesso ha delle lezioni bene ce la andiamo in pubblicità tra poco il sindaco di Crognaleto Giuseppe D'Alonso perché ci sono novità importanti per i cittadini dell'area di Crognaleto a tra poco eccoci qui buongiorno al sindaco Giuseppe D'Alonso sindaco di Crognaleto perché ci sono notizie importanti che dobbiamo dare noi ne abbiamo già parlato nel corso del nostro telegiornale però arrivano i rimborsi da parte dell'Enel che cosa sta accadendo sindaco? ma in pratica durante il sisma l'Enel ha fatto diciamo una sorta di convenzione con l'autorità dell'energia la quale convenzione stabiliva una sorta di non rimborso ma un'agevolazione su quelle che erano le spese fisse della bollettazione ovviamente riferite ai comuni del cratere oggi a distanza quasi di tre anni ormai l'Enel recepisce questa disposizione o meglio accoglie il ricorso che noi abbiamo fatto lo scorso maggio lo scorso 2011 e dà questo rimborso a tutti i cittadini non solo di Cronialeto bensì di coloro che hanno fatto ricorso quindi parlo di Isola parlo di Castelcastagna parlo di tutti i comuni che insieme a Cronialeto facemmo quella cordata per vederci riconosciuto questo sacro santo diritto ora la lettura che si dà a questo fenomeno è dubbio intanto bisogna dire che l'Enel non sbaglia l'Enel è un colosso l'Enel ha un ufficio legale tanto quanto il tribunale di Teramo quindi quando esprime un pensiero e soprattutto in questa fase quando tira fuori dei soldi lo fa con cognizione di causa la lettura qual è? o ci sono delle preavvisaglie perché è noto che c'è stato ricorso al Consiglio di Stato da parte della Protezione Civile o Regione Abruzzo quindi siamo in attesa che questa cosa venga al vaglio e credo che ormai sia imminente quindi o ci sono delle preavvisaglie per quanto concerne o diversamente significa che l'Enel è un benefattore e tira fuori qualche milione di euro perché di queste cifre parliamo per accogliere questo ricorso fatto dai comuni e accolto dal Tar che in definitiva non è che reinseriva i comuni nel cratere dava disposizione alla Protezione Civile o Regione Abruzzo qui insomma c'è tanto da parlare di rivalutare tutto ciò che è stato o era stato il problema per cui il 6.0 l'inserimento o meno dei comuni all'interno del cratere quindi non c'erano disposizioni precise oggi l'Enel invece sborsa queste risorse parliamo di cifre che vanno da 500 a 1400 euro più o meno vero? il rimborso la convenzione parlava di un periodo di 36 mesi su 36 mesi ovviamente c'è un rimborso in base al consumo dell'utente quindi si va da una soglia dai 500 euro fino ai 1400 euro io conosco famiglie che hanno avuto questa somma come rimborso è ovvio che il 100% del rimborso va verso le famiglie il 50% verso l'imprenditoria quindi mi riferisco alle attività commerciali o comunque alle casse comunali perché anche lì avremmo dei ristori e quindi per tornare un po' al sunto della situazione la duplice lettura qual è? o l'Enel ha preso un abbaglio e io sfido perché ripeto insomma parliamo di costo del danaro oggi la crisi stringe sempre più quindi tirare fuori qualche milione di euro non è cosa di poco conto oppure ci sono delle ravvisaglie che ben presto vedranno come dire riconosciuto il diritto ai cittadini di Crognaleto e a tutti coloro che hanno creduto in questa battaglia per poi avere ulteriore risorse e agevolazioni io penso al Bollo Auto penso all'ARPA penso a tutte quelle situazioni che sono state private i cittadini di Crognaleto beh questa è sicuramente una notizia molto molto importante quante famiglie sono risiedono ovviamente nell'area di Crognaleto intanto Sergio se possiamo microfonare anche l'assessore Archimede Forcellese lo invitiamo già nel nostro salottino così iniziamo la discussione anche con l'assessore Forcellese quante famiglie dicevo noi abbiamo 1400 anime residenti trasformarle in famiglia basta fare un conteggio un calcolo medio di 4 unità per ogni famiglia e quindi viene subito il dato finale in grosso modo quello è il dato e quindi in un momento di difficoltà dove le risorse economiche insomma sappiamo la crisi stringe e quando stringe stringe maggiormente sulla famiglia è una boccata di ossigeno avere quelle 400 500 euro di rimborso oppure arrivare anche a 1000 euro in un momento di difficoltà io credo che sia una manna venuta dal cielo se poi e lo dico con il cuore in mano e incrocio le dita io stesso queste somme devono essere restituite vorrà dire che un anticipo con una realizzazione li daremo di nuovo a Lene ma intanto prendiamo questa risorsa intanto arriva la manna in barba in barba perché quando noi abbiamo fatto ricorso come amministrazione insomma abbiamo riscato tutto quel meccanismo Crognaleto è stato un po' come devo dire il capofila di tutta questa battaglia regionale devo ringraziare anche il consigliere regionale di Pancrazio che insieme a noi abbiamo portato il problema in regione in risolto perché poi il problema è stato in risolto nonostante tutte le assicurazioni che abbiamo avuto dalla commissione dallo stesso presidente Chiodi abbiamo proposto una leggina insomma tutte cose che sono lì ferme in attesa non so di che cosa oggi devo riconoscere che qualcosa insomma ha dato frutto la nostra battaglia in barba a coloro che dicevano sono tutte fandonie sono tutte risorse spese male perché noi voglio precisare per avere questo beneficio oggi tra virgolette beneficio ai cittadini abbiamo speso dei soldi abbiamo fatto ricorso al TAR devo ringraziare l'avvocato Referza che in qualche maniera ha coadiuvato la mia attività legale e i primi risultati arrivano allora io intanto saluto l'assessore Archimede Forcellese buongiorno comune di Giulianova assessore al turismo non solo ma adesso sia con il sindaco D'Alonso sia con l'assessore Forcellese voglio aprire la parentesi dedicata al maltempo dei giorni scorsi intanto siamo passati nell'arco di una sola settimana se vogliamo dieci giorni dal blizzard dei meno 5 della mattina meno 6 della mattina di dieci giorni fa appunto ad una primavera accennata come quella odierna perché stamattina devo dire c'era un'alba davvero straordinaria gestione del maltempo a Crognaleto e a Giulianova due realtà che hanno vissuto questo fenomeno eccezionale straordinario in maniera particolare non diversa devo dire però io voglio sottolineare un aspetto importante perché al comune di Giulianova era arrivata una mail di protesta da parte di un cittadino che segnalava la situazione precaria dei marciapiedi che erano ghiacciati non si poteva camminare eccetera intanto io dico che nell'eccezionalità dell'evento bisogna anche fare un plauso a chi in quel momento era sul territorio per cercare di ripristinare la normalità ma va anche detto che qualche piccola falla ci può stare però l'assessore Forcellese e pochi lo fanno ha risposto a questa mail sottolineando l'aspetto più drammatico che si stava vivendo anche in altre località giusto assessore ma certo insomma io credo si parlava dei marciapiedi Giulianova che erano invasi io credo che in quei giorni bisognasse avere un pelino di pazienza perché insomma la situazione era decisamente eccezionale dalle nostre parti insomma non capita tutti i giorni tutti gli anni una situazione meteorologica come quella che si è verificata appunto in quei giorni e quindi c'era una lettera di protesta io poi chiaramente tra l'altro indirizzata stranamente solo a me anche se io non ero direttamente responsabile di questo piano perché c'era il vice sindaco Filipponi che si occupava di questo però lei ha risposto puntualmente io ho risposto sì facendo notare come insomma voglio dire le problematiche c'erano state dappertutto io credo che quest'anno Giulianova l'abbia gestita veramente bene questa situazione aveva dato atto di tutto ciò e lo ha fatto anche poi nei prossimi giorni pubblicheremo queste informazioni spendendo poco tutto sommato rispetto almeno alle cifre che sento degli altri comuni adesso poi vedremo però fra qualche giorno pubblicheremo tutto ciò e quindi dicevo la situazione tutto sommato è stata gestita bene è chiaro che in un momento nel quale noi avevamo delle intere zone della città quelle più a monte che avevano situazioni del genere che insomma strade con 60 70 centimetri di neve quindi cittadini bloccati per qualche giorno sentire la protesta perché un marciapiede perché i marciapiedi al centro erano ancora innevati insomma sinceramente mi sembrava eccessivo perché bisogna tenere conto l'esempio di Mociano perché Mociano ha vissuto una realtà particolare per capirci io vivo in una zona tra Giulianova e Mociano diciamo che è Giulianova però in realtà lì il comune è Mociano lasciavo l'auto a 500 metri da casa e andavo a piedi tutti i giorni per andare in comune in alcuni giorni sono andato a piedi da casa al comune non mi sono sognato di chiamare il comune di Mociano e lamentarmi di questa situazione perché immagino che a Mociano ci fossero situazioni molto più complesse della mia sicuramente credo che bisogna avere un po' di pazienza a volte i cittadini mi consentano non ce l'hanno io capisco è un momento diciamo molto difficile la politica si trova ad un minimo storico e quindi tutti si sentono autorizzati sempre e comunque a protestare a lamentare esatto il bersaglio è sempre la politica molte volte è vero hanno ragione a volte mi consenta non hanno pienamente ragione a Crognaletto sindaco invece voi avete avuto anche la neve non si è scherzato intanto un sms buongiorno sindaco sei un grande che continua così sicuramente hai qualcosa da insegnare a qualche tuo collega in città grazie ispira la giornata inizia bene inizia bene questo video settimana insomma Crognaletto la neve è stata tanta io sono d'accordo pienamente con l'assessore che saluto l'amico forcellese quando dice che in un momento di difficoltà e questa è stata una difficoltà perché avere un innevamento totale regionale perché questo è abbiamo visto le immagini del satellite che relativamente all'Abruzzo si vedeva proprio la fascia centrale adriatica completamente bianca delle immagini straordinarie che girano ancora e quindi dicevo un innevamento totale regionale provinciale che va dalla costa all'entroterra insomma io mi rivolgo ai cittadini ai quali come devo dire spendo me stesso perché credo che questo debba essere il ruolo dell'amministratore c'è bisogno di un po' di pazienza non è pensabile sgomberare tutto subito non è pensabile avere tutto a portata di mano non è pensabile che il cittadino di per sé non partecipi in qualche maniera al piano neve perché ogni comune ha il proprio piano neve il nostro ha funzionato come devo dire perfettamente ovviamente l'innevamento è stato alto 130 cm di neve Tugur come si suol dire su tutto il territorio insomma crea una difficoltà il mio piano neve è garantito da un mezzo da innevamento alto e due macchine due autocarri piccolini che non erano più efficienti perché ovviamente con un nevamento così elevato c'è bisogno di un'altra attrezzatura io ricordo bene che il giovedì avevamo già iniziato perché in montagna il piano neve non è partito come devo dire ha solidificato la protezione civile l'8 di febbraio noi siamo partiti già dalla prima neve dal 2 di febbraio perché c'è stata la prima ondata quando è arrivato l'8 insomma c'è stato un sovraccarico di lavoro io il giovedì mattina che è stato l'annuncio dello tsunami nevoso definiamolo così ero a Piano Roseto avevamo preso una turbina quindi un mezzo che tira fuori la neve per l'alto innevamento ed eravamo a Piano Roseto diciamo in aiuto a Ruzzo perché c'era una carenza idrica che già c'erano le preavvisaglie per andare ad aprire un serbatoio e arrivò il primo dispaccio della protezione civile poi ne cominciarono ad arrivare altri per arrivare poi alla sera l'ultimo dove imponeva in maniera come devo dire perentoria i sindaci di attivare un sistema e quindi iniziarono le preoccupazioni perché insomma significava che alla luce di quando è avvenuto a Roma e quindi l'amministrazione in qualche modo doveva porsi all'attenzione della propria cittadinanza e di lì sono partite ovviamente io ho costituito la sera alle 9 il mio COC centro operativo comunale ho convocato tutte le mie autorità e abbiamo fatto un piano dettagliato che ha funzionato a misura perché non c'è stata frazione non c'è stato cittadino che noi non abbiamo raggiunto in tempo reale io dico sempre la mia vecchietta uguale a chi me la tocca dove non siamo riusciti ad arrivare con il mezzo per i 200 metri insomma anche perché non c'è la possibilità di transito ho mandato la protezione civile a verificare gli ho fatto portare il pacchetto con la razione K definiamola ma insomma i viveri per salutare questa signora come stava quindi il piano ha funzionato perfettamente ovviamente non si può pensare di andare a togliere il fiocco di neve davanti casa però non c'è stata persona perché il piano neve deve garantire l'essenzialità quindi di pristinare la viabilità principale non deve non prevede come dire spalare la neve dinanzi casa quello bisogna farlo a proprie spese cioè con bisognerrebbe che in qualche maniera ognuno di noi il famoso badire la cosiddetta insomma e adoperarsi per il piano neve la preoccupazione del sindaco di Croniareto ma credo che sia un po' di tutti i sindaci o meglio degli amministratori e adesso cosa succede o meglio perché il momento dell'avvisaglio è stato veloce ed immediato i sindaci hanno risposto tutti adesso è inutile andare a trovare il capello o le cose che insomma in linea di massimo hanno risposto tutti adesso però vedo un rallentamento generale non c'è più come devo dire notizia di come bisogna fare per dare risposta a queste spese fatte chi più e chi meno però le spese ci sono state io proprio ieri sentivo la provincia nella persona dell'assessore Romandini e chiedevo ma scusate adesso c'è bisogno di cominciare a fare la quadra perché non vorrei che si verificasse di nuovo marzo 2011 laddove c'è stata una grande alluvione laddove insomma sono venute le massime autorità in provincia di Teramo per parlare del piano emergenziale dovuto all'alluvione e dicendo ai sindaci mettete a posto tutto che poi ci pensiamo noi ma ad oggi noi non abbiamo nulla io ho dovuto fare un mutuo per pagare le mie spese durante l'emergenza dell'alluvione lei ha fatto un mutuo per pagare le spese il mutuo lo ha fatto anche il comune di Pineto di 300 mila euro per pagare le ditte che hanno operato in quel periodo eccetera Pineto che ha speso 300 mila euro per l'emergenza neve dovrà spendere perché chiaramente Roseto 200 mila euro Roseto Giulianova invece probabilmente spenderà di meno però voi avete come dire affrontato le spese lo scorso anno relative all'alluvione Assessore eh sì siete stati rimborsati neanche un centesimo ovviamente e c'ero anch'io ad una riunione in cui c'era l'Assessore Giuliant che sollecitava i sindaci le amministrazioni comunali a spendere perché poi sarebbe stata la regione a far fronte a queste spese a oggi non è accaduto nulla diciamo che negli ultimi giorni c'è stato un accadimento a livello nazionale e cioè una norma che era prevista nel decreto mille proroghe del 2011 è stata dichiarata incostituzionale per capirci il sa che è stato dichiarato uno stato di calamità naturale però le risorse secondo quella norma sarebbero state eh si sarebbero dovute individuare all'interno della regione con l'aumento sostanzialmente della tassazione questo invece non c'è un sms che la riguarda allora ci tengo tanto invece a complimentarmi con l'assessore forcellese per la rapidità con la quale ha affrontato l'emergenza abito nel comune adiacente nel quale le difficoltà sono state maggiori affrontate con meno rapidità ma nonostante tutto i cittadini sono stati più comprensivi questo è un po' quello che a volte io devo essere sincero in quei giorni sono stato a vedere anche che cosa accadeva nei comuni limitrofi ho fatto anche delle foto che mi tengo personalmente e posso dire che quello che è accaduto a Giulianova la pulizia delle strade lo spargimento del sale anche in modo preventivo non è accaduto in altri posti ho visto strade molto innevate da noi ci lamentavamo per i marciapiedi in altre città c'erano intere strade che erano impraticate io posso essere testimone perché ho frequentato non mi piace parlare degli altri però io ho visto e quindi posso ho anche documentato quello che sto dicendo per cui se dico delle cose le dico in modo documentato e quindi so che le cose sono andate così e poi un'altra bella iniziativa del comune di Giulianova è stata quella di aprire il centro sociale chiamiamolo così quello dell'annunziata ai senza tetto ai clochard diciamo così ma altro aspetto importante è che sono venute persone quindi senza tetto di fuori comune a Bagliatica a Tortoreta noi avevamo questo dato Assessore vero? Sì sì esattamente così sono stati 14 fruitori un pasto caldo un letto per dormire beh certo queste sono le situazioni poi più complesse perché molti si sono lamentati però per fortuna erano dentro casa avevano difficoltà nell'uscire di casa però erano dentro casa sa bene che ci sono tante persone purtroppo che non hanno nulla e a questi bisogna porre un'attenzione maggiore proprio in questi momenti infatti ieri è arrivato il dato ufficiale del comune di Giulianova 14 persone ospitate in questa importante struttura resteranno lì sono andate già via come? Adesso io non lo sto seguendo direttamente quindi non le posso dire adesso come evolverà la situazione però insomma sicuramente seguiremo questo con attenzione emergenza idrica per l'approvvigionamento che non riguarda solo i comuni di montagna ma questo è strano è paradossale perché in montagna di acqua ce ne dovrebbe essere di più buongiorno caro Sinna come dispiace che lei non abbia la grande fortuna di avere piste e tasci nel territorio che amministra come il suo collega di Pietra Camela il quale utilizza male questa grande risorsa però è il giudizio del telespettatore avrebbe sicuramente gestito meglio l'emergenza noi non entriamo a casa degli altri però voglio spendere qualcosa io ho risorse da investire in tal senso mi sono attivato con lo Gran Sasso Terramano con un programma ed è stato inserito nella triennalità dell'amministrazione stessa di espandere l'impianto sciistico di Prato Selva anche verso il comune di Cronialeto ci sono già le condizioni io ricordo ma questa è una notizia allora beh questa è una notizia già detta tante volte io ricordo l'allora amministratore delegato Doriano Di Benedetto il senatore con il quale avevamo già pianificato un'escursione con i tecnici per andare a verificare come fare il passaggio perché da sopra a Prato Selva è molto semplice arrivare a noi la chiamiamo piano della mozza mozza con le delle monache insomma si arriva dall'altra parte e quindi si va su un bacino veramente eccezionale quasi sempre innevato io invito tutti a venire a vedere manca lo strumento questo strumento era già programmato ad oggi la Gran Sasso insomma non so cosa stia facendo perché noi non abbiamo più titolo di conoscere cosa succede all'interno del consiglio di amministrazione come magari a Ruzzo come in altre strutture insomma vedremo il da farsi dopo però Crognareto ha il potenziale sciistico io spero lo discuteremo nella prossima amministrazione perché ormai i tempi sono conclusi ma c'è questa possibilità quindi questa è una notizia si parlava dell'emergenza idrica perché paradossalmente stavo dicendo l'acqua viene a mancare comunque c'è stato un abbassamento dell'approvvigionamento nel territorio quindi montano è strano perché in montagna di acqua ce ne dovrebbe essere di più e di riflesso anche sulla costa perché l'avvocato Strozieri che tra l'altro è il presidente della Ruzzoreti ha invitato il comune di Giulianova ad un consumo diciamo più attento dell'acqua potabile quindi per controllare meglio le risorse idriche questo perché perché c'è stato un abbassamento comunque un calo dei serbatoi chiamiamoli così dovuto questo calo al ghiaccio quindi è vero tanta neve è vero tutto quello che stiamo dicendo ma è anche vero che il ghiaccio ovviamente condensando l'acqua diventando ghiaccio crea questa situazione come gestite voi questa emergenza Sindaco? Beh diciamo intanto condivido è paradossale in montagna che non ci sia l'acqua insomma è la fonte e quindi non abbiamo il discorso del ghiaccio incide ma c'è una particolarità la criticità dell'adduzione del discorso idrico viene un po' dai fenomeni atmosferici questa neve che è arrivata grazie a Dio io dico per una serie di condizioni andrà un po' un attimino a ricaricare i serbatoi naturali ma è un periodo che vedremo più in là forse a maggio perché c'è bisogno quest'estate dovremmo essere un po' tranquilli però adesso dobbiamo solo per sperare di riuscire a captare queste acque di superficie come vengono definite per rifocillare un attimino i serbatoi c'è un'altra problematica che Ruzzo conosce noi abbiamo avuto un incontro con il presidente tempo fa dove appunto c'era questa carenza lui ha invitato non solo il comune Giulianova ma tutti i territori a diminuire o meglio a controllare l'acqua pubblica quindi i fontanini pubblici ma il problema è a monte ci sono una serie di situazioni io devo intanto fare un inciso ringrazio gli operatori della Ruzzo che insomma fanno H24 per cercare di fare manovre e dare risposte ai sindaci li vediamo operativi sul territorio poi quindi una grande lode a loro devo dire anche grazie al vicepresidente del Ruzzo che insomma fa un po' da filtro per tutte le le problematiche che i sindici hanno e quindi scaricano in consiglio amministrazione perché anche lì noi non abbiamo referenti per poter interloquire in maniera diretta il problema è che c'è una rete idrica che è un po' fatiscente ci sono rotture la Ruzzo sa noi abbiamo detto questa cosa ci sono da rimodulare le capotazioni a monte perché molte sorgenti insomma perdono acqua e quindi io dico sempre una mia località che è nota all'ambiente Ruzzo cento fondi beh lì se noi facciamo una captazione adeguata riusciamo a fornire acqua alle Puglie perché ce n'è tanta quindi c'è solo da investire il presidente dice che farà un piano industriale o societario che darà risposta in tal senso adesso siamo in grave difficoltà io ho la chiusura notturna in montagna quindi è paradossale la chiusura notturna dei paesi come Tottea Nerido questa mattina mi svegliavo con una serie di messaggini di cittadini che mi aggredivano ma insomma come si può garantire la vivibilità in montagna perché poi è tutto riconducibile a questo aspetto qua l'emoragia la si blocca dando i servizi un servizio primario è quello dell'acqua se viene a mancare ahimè diventa impari la sfida quindi voi di notte dovete chiudere i rubini io già ho questa regolamentazione nel paese di Tottea quindi parlo paesi grandi che insomma ho inerito il mio capoluogo questa notte è stata chiusa l'acqua per appunto fare l'approvvigionamento come dire devo dire disguidi ma insomma credo che la ruso si debba attivare per trovare una soluzione allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità torneremo tra poco con i nostri ospiti per questa bella chiacchierata mattutina eccoci qui il sindaco di Crognaleto resterà con noi fino alla fine della puntata non so se l'assessore Forcellese deve lasciare prima no so che comunque lunedì lei avrà un impegno importante istituzionale vero? dovrà indossare la fascia tricolore? si a San Benedetto del Tronto per la problematica dei tagli che ci sono stati molto drastici per quanto riguarda il trasporto ferroviario no? è paradossale qui viviamo in una società in cui la mobilità è uno degli aspetti fondamentali ci sono persone che lavorano in stati esteri e tornano settimanalmente in Italia e ci troviamo invece in una situazione in cui abbiamo difficoltà a muoverci da una regione all'altra è incredibile è veramente incredibile allora con l'assessore Forcellese invece volevo aprire un discorso che riguarda il turismo perché Giulia Nova da due anni a questa parte due anni sta come dire riconquistando i consensi dei turisti perché è una città che viene apprezzata sempre un turismo se vogliamo tranquillo pacato della famiglia e il dato è in crescita di presenze di arrivi Assessore ma diciamo che riconquistare non è la parola più corretta però c'era stato un calo nel 2009 c'era stato esatto nel 2009 insomma noi purtroppo negli ultimi anni siamo stati interessati da eventi negativi abbiamo ricordato l'alluvione del 2011 e le ferite sono purtroppo ancora aperte pensi lei conosce bene la situazione degli argini dei fiumi Salinello e Tordino e il fatto che non sia stato fatto assolutamente nulla al momento per metterli in sicurezza ma c'era stata prima l'emergenza dovuta al terremoto che poi era un terremoto che non aveva interessato il nostro territorio direttamente ma l'influenza dal punto di vista dell'immagine negativa c'era stata molti albergatori mi hanno detto che dei turisti che storicamente erano venuti a Giulianova erano poi andati in altre località addirittura a San Benedetto insomma stiamo parlando di poco più di 20 km semplicemente perché lì erano nella regione Marche noi invece eravamo nella regione Abruzzo e l'Abruzzo era stato colpito dal terremoto una mentalità ristretta mi permetto di dire davanti questi soggetti io sono d'accordo però questo era un dato di fatto inconfutabile quindi ci fu un enorme calo delle presenze io credo che il 2009 registrò un calo di presenze per lo meno del 30% che poi fu mitigato dal fatto che molti alberghi furono riempiti di insomma residenti delle zone colpite dal terremoto che erano stati spostati sulla costa e quindi si attenuò un po' quello insomma il grave problema che ci fu nel 2009 poi c'è stata una crescita già nel 2010 siamo andati ai massimi livelli come mai era accaduto a Giulianova e quest'anno c'è stata una ulteriore crescita soprattutto nel periodo da giugno a settembre mentre negli altri periodi si è registrato un calo leggero quindi nei periodi non prettamente turistici probabilmente da attribuire al fatto che durante il periodo del terremoto molte aziende molti enti tutti coloro che operavano nelle zone terremotate facevano base sulla costa e quindi c'era stato un aumento in quel periodo dei flussi chiamiamoli turistici ma non sono proprio turistici insomma flussi di persone appunto che venivano ad occupare i nostri alberghi e quindi nel periodo estivo però abbiamo avuto un trend decisamente in crescita come mai era accaduto che cosa proporrete quest'anno quali sono le iniziative su cui il comune di Giulianova sta lavorando per la prossima stagione turistica innanzitutto credo che lei abbia saputo il fatto che si è deciso di non applicare insieme a tutti e sette i comuni gli altri sei comuni della costa l'imposta di soggiorno e questo credo che sia già una iniziativa in un momento così difficile di importanza fondamentale in fondo tutti i comuni hanno rinunciato ad una quota non pensavamo ad una tassa di soggiorno con un importo confrontabile non so con quello che viene pagato a Roma piuttosto che a Venezia insomma era molto più modesta però le amministrazioni hanno deciso di applicare questa tassa a partire dal 2013 poi insomma vedremo le evoluzioni e già questo io credo che sia molto importante considerata la situazione generale e le previsioni che non sono rose si parlava di Costa Blu di questa iniziativa che tanto era stata promossa dalla ricordiamo dall'assessore Vannucci in provincia di Teramo il marchio che apparteneva a Mimì di Carlo che era stato vice sindaco e sindaco facente funzioni al comune di Giulianova questo questo Costa Blu alla fine poi risulta essere un contenitore vuoto perché ci sono state le iniziative di promozione sono stati spesi anche molte migliaia di euro per promuovere questo marchio con delle iniziative che la provincia ha portato avanti come ad esempio la pubblicità sugli elenchi telefonici di località di regioni del nord Italia però ad oggi il Costa Blu è un contenitore vuoto e si è detto che il comune di Giulianova vorrebbe addirittura riappropriarsi di questo marchio noi lo abbiamo detto e siamo decisamente scontenti di questa situazione insomma adesso non voglio fare questioni politiche perché non è il mio stile esatto però effettivamente è stato fatto troppo poco abbiamo creato un contenitore sono state fatte conferenze stampa questo contenitore fu presentato alla BIT di Milano nel 2010 da quel momento purtroppo c'è stato veramente troppo poco diciamo il nulla diciamo il nulla noi avevamo già scritto una lettera di protesta lo scorso anno ci saremmo dovuti vedere con l'assessore Vannucci con il presidente Catarra poi ci fu l'alluvione a quel punto insomma le priorità diventarono altre da quel giorno però non è stato fatto più nulla effettivamente io credo che in generale la regione Abruzzo faccia troppo poco quindi si fa troppo poco per il turismo visto in queste ultime settimane la pubblicità degli impianti sciistici abruzzesi sulle televisioni nazionali sinceramente vedo troppo poco per il turismo estivo e non ci dimentichiamo io sono un appassionato di sci e qui mi auguro che a Crognaleto facciano delle piste da sci però numericamente non c'è dubbio che il turismo balneare sia la faccia da padrone ma non solo a Giulianova a livello nazionale quindi bisognerebbe fare molto di più anche per il turismo balneare però lei aveva avuto un'intuizione qualche tempo fa tra l'altro voglio coinvolgere anche il sindaco d'Alonso perché era nata una collaborazione con il comune di Castelli cioè quello di portare i turisti della costa quindi i bagnanti verso l'interno quindi nelle località d'arte non solo nelle località di montagna ad esempio Teramo ha comunque la sua storia dei musei che secondo me andrebbero valorizzati meglio parliamo di Crognaleto come località di montagna Isola del Gran Sasso Pietracamela Prati di Tivo Castelli Giulianova che ha avviato questa collaborazione con il comune di Castelli è ancora dell'idea che bisogna creare queste sinergie lo chiedo anche al sindaco d'Alonso per incentivare ulteriormente il turista a scegliere località come Giulianova Roseto o comunque della nostra provincia perché poi parliamo della provincia di Teramo come quella che garantisce quasi il 60 65% dei turisti che arrivano in Abruzzo ogni anno è ancora di questo avviso creare queste sinergie perché nel nord Europa queste cose funzionano assolutamente sì io credo che il valore aggiunto di una località come Giulianova ecco adesso mi soffermo un attimo su Giulianova sia innanzitutto la parte alta con il centro storico e tutto quello che c'è ma ancora di più tutto il retroterra che c'è noi abbiamo una ricchezza inestimabile che però sinceramente non sappiamo mi passi questo termine brutto però insomma è esemplificativo ci permette di capire bene di che cosa sto parlando non sappiamo vendere il nostro territorio e questo è molto grave ma chi se non la provincia dovrebbe svolgere questa funzione di raccordo tra le varie comunità io credo che sia veramente e questa è la ragione per cui dico si fa troppo poco perché i turisti che vengono al mare apprezzano le nostre località costiere però si potrebbe fare molto di più si potrebbe diversificare l'offerta turistica creare itinerari si potrebbe destagionalizzare il problema principale è la destagionalizzazione io penso so che non è una cosa facile ma non si potrebbe pensare non so a fare un qualcosa dico una banalità però abbinare il mare con la neve con la montagna cioè ci sono delle cose bellissime il mare d'inverno ha il suo fascino come del resto ce l'ha la montagna perché non inventarsi qualcosa per mettere in relazione la costa con quello che offre la costa e la collina piuttosto che la montagna Sindaco D'Alonso sono assolutamente d'accordo con quanto dice Forcellese ma con quanto ha detto prima il nostro amico ormai il futuro deve essere integrato io credo che noi nella provincia di Terramano abbiamo uno scenario unico montagna mare in meno di 20 minuti si riesce da da prati di tivo ad arrivare a Giulianova o da Crognaleto ad arrivare ad Albatriatica o viceversa in pochissimo tempo uno scenario che sul territorio nazionale sfido chi lo possa avere bisogna solo lavorarci ed investirci noi con Giulianova con il sindaco già lo scorso anno avevamo messo in piedi un programma poi è saltato per condizioni economiche ovviamente dove in maniera itinerante c'era una esposizione di foto legate al sisma e alle bellezze del territorio sia dell'entroterra che del paese della città di Giulianova in maniera come devo dire itinerante ovvero tra Crognaleto e Giulianova quindi un primo passaggio sono d'accordo con l'assessore Forcellese quando dice che è un ruolo ormai bisogna capire quale sia il futuro di questa provincia è un ruolo che dovrebbe fare la provincia qualcosa si è fatto i pullman che girano ma insomma non è quello l'obiettivo è un altro quello di trasformare questo turismo estivo invernale lungo l'asse che va dalla costa all'entroterra il legislatore in maniera assurda lo voglio dire faccio riferimento all'articolo 16 già impone ai territori ai piccoli territori in qualche maniera di fare sintesi perché oggi la riduzione della spesa la caricano tutta sui piccoli comuni noi dobbiamo nell'entroterra dobbiamo ragionare in tal senso io mi sono sentito già con i colleghi sindaci di Mitrofi al mio territorio dobbiamo pensare di organizzare un'unica struttura impianti sciistici turismo estivo penso al lago di Campotosto che è un grande polmone che assorbe dalla costa fino all'entroterra bisogna solo sedersi e ragionare io credo che il futuro sarà basato soprattutto su questi elementi ormai c'è da fare sintesi c'è da unirsi per portare beneficio al territorio ma poi abbiamo anche un valore aggiunto che è quello del settore enogastronomico non dimentichiamoci che la nostra provincia non ha nulla da invidiare rispetto agli altri territori perché noi abbiamo dei vini eccezionali delle colline terramane pensiamo al Montepulciano delle colline terramane pensiamo al buon brodetto parlo di Giulianova Rosetta o piuttosto che Alba Adriatica insomma del buon pesce dell'Adriatica e poi abbiamo la carne dell'entroterra le grigliate dell'entroterra esatto potrebbe nascere questo rapporto creare insomma assessore dei percorsi come si fa ad esempio in Spagna sono stato in Spagna ci sono queste situazioni ovvero si va in una località balneare però si creano degli itinerari che ti portano ad esplorare ad ammirare l'entroterra ma è proprio quello che dicevo però capisce che è difficile da parte di un singolo comune che già deve affrontare tanti problemi poter lavorare ma il Costa Blu era nato in questa parola è appunto perciò che avrebbe dovuto insomma operare in questo senso purtroppo non è diciamocela tutta non è accaduto nulla e questo è un vero peccato insomma ecco io ho provato negli anni passati a fare delle iniziative abbiamo fatto la consegna della bandiera blu congiunta con una maratona una specie di staffetta che con due staffette che partivano da Martinsicuro e da Silvi e che si ricongiungevano a Giulianova in una giornata poi fu la più brutta giornata da un punto di vista meteorologico da quel giorno non è piovuto più forse era un segno del destino però ecco insomma ci va qualcosa di più che può fare solo chi sta al di sopra del comune e soprattutto chi conosce anche il territorio cioè la sinergia la collaborazione deve nascere ovviamente con l'ente superiore sovracomunale che deve raccordare i comuni ma poi chi meglio di un assessore o comunque dell'amministratore che controlla e conosce bene quel territorio dare quindi suggerimenti proposte per creare questa sinergia questo percorso che possa portare turisti dalla costa verso l'entroterra e viceversa ma è giusto anche perché poi un'altra cosa importante è ovvio che ci sono di turisti che vengono al mare vogliono stare solo ed esclusivamente al mare e quelli stanno lì però noi potremmo catturare una fascia di turisti che invece è interessata a un altro tipo di discorso io ripeto lo dicevo prima ma sarebbe bellissimo non so io se fossi un turista spendere due giorni a Giulianova due giorni al lago di Campotosto un giorno a Castelli io credo che abbiamo molto da offrire in questo senso e sinceramente facciamo poco ma non sarebbe una vacanza noiosa dinamica straordinaria e certo poi c'è l'ultima parte magari la si dedica più a riposo la passeggiata in famiglia e si riparte e si ritorna a lavorare Sindaco che cosa vogliamo aggiungere ancora per quanto riguarda Crognaleto noi abbiamo ancora qualche minuto 5-6 minuti in compagnia io per Crognaleto ormai sono nella fase finale perché la mia amministrazione finisce il prossimo mese di maggio non è decretato il giorno però ormai siamo nella fase finale Crognaleto ha un grande potenziale un grande territorio una grande si ricandiderà? diciamo che il gruppo di maggioranza mi ha dato mandato in tal senso adesso ci sono le ulteriori verifiche come devo dire politiche io insomma sono un esponente del PD quindi farò i passaggi nel mio partito e se c'è come dire il via e lascia andare insomma penso ancora di poter dare qualcosa al mio territorio Crognaleto è un grande territorio una grande estensione grandi cittadini che hanno voglia di esserci di scommettere ancora sul territorio io credo che ci siano ancora le condizioni fermo restando tutto quanto abbiamo detto prima terremoto fuori terremoto dentro ma c'è una volontà di vivere il territorio a partire dal discorso scuola a partire dal discorso sociale a partire dal discorso di una politica mirata al sostegno delle famiglie io credo che noi in qualche maniera ancora possiamo dare questo impulso al territorio i cittadini ci sono credo che la scommessa si possa fare Assessore Forcellese invece il comune di Giulianova voglio aprire un attimo una parentesi politica a Giulianova molte critiche dopo la nomina dell'assessore Cameli e Nausica Cameli che appartiene all'Udc all'interno della maggioranza questo scontro con Progresso Giuliese che cosa sta accadendo come sta vivendo Giulianova la politica in questa ultima parte diciamo in questo lasso di tempo a Giulianova e penso che sia un po' su tutti i giornali in questo momento c'è un clima estremamente velenoso direi penso che sia un eufemismo quindi c'è un clima politico molto difficile con delle situazioni diciamo che sono secondo me paradossali qui ci sono persone che hanno cambiato la casacca più volte lo hanno fatto anche in questa legislatura e che sono estremamente critici su tutto qualunque cosa si faccia qualunque cosa faccia l'amministrazione comunale c'è sempre un pretesto per criticare io credo che sia un clima molto difficile l'alleanza con l'UDC io credo che sia un'alleanza strategica e un'alleanza politica che penso possa essere mutuata in tante altre realtà della nostra regione tenga presente che in altre regioni lo si fa già il presidente della regione Marche è un'espressione di un'alleanza nella quale c'è l'UDC ma il presidente spacca e al secondo mandato nel primo mandato in quell'alleanza non c'era l'UDC c'era la sinistra più più sinistra c'è anche un altro aspetto di cui tener conto a Giulianova ovvero quello dell'Italia dei valori perché l'Italia dei valori ha un'anima c'è il consigliere Ragni giusto in consiglio comunale giovanissimo che appoggia il sindaco Mastro Mauro ma poi c'è una dirigenza o comunque una parte della dirigenza che sembra essere piuttosto critica nei confronti del sindaco Mastro Mauro ed è espressa da Eden Cibei che poi sarebbe il responsabile guardi io ho letto proprio ieri un commento su Facebook del professor Cibei e credo che sia veramente secondo me al limite anche della querela perché insomma non si possono dire liberamente scrivere queste cose mi consenta poi un piccolo passaggio un sassolino che mi devo togliere cioè c'è gente che interpreta questi social network come Facebook come se si chiacchierasse al bar ma in realtà ci sono cose che poi rimangono scritte e si scrivono cose veramente gravi cioè non banalità penso che abbia avuto modo anche lei di vedere alcune di queste cose e sono veramente io sinceramente non riesco a capire che lo faccia un ragazzino magari non si rende conto di quello che sta scrivendo ma che delle persone adulte facciano qualcosa del genere ricorrano a tali strumenti e poi magari oscurano alcune notizie perché insomma questi mettono delle notizie e altre le oscurano sa che c'è stata una polemica nei giorni passati per la questione dell'anagrafe pubblica degli eletti noi a Giulianova abbiamo approvato un regolamento purtroppo alcuni consiglieri che si sono fatti io non faccio nomi e non li ho fatti che si sono fatti paladini della trasparenza che ci hanno sempre sì perché lei è anche l'assessore della trasparenza l'appuazione del programma e quindi il fatto che si siano fatti paladini della trasparenza poi però non hanno dato un solo dato personale basterebbe anche un curriculum nel curriculum ci sono le esperienze lavorative ci sono anche le esperienze politiche e magari il cittadino scoprirebbe che quell'esponente politico ha cambiato cinque casacche potrebbe anche succedere questo io non ho visto nulla di tutto ciò e insomma anche qui bisogna essere coerenti alcuni di questi che poi non hanno non hanno dato alcuna informazione e che hanno delle pagine su strumenti come facebook dove raccontano di tutto non hanno fatto menzione di questo comunicato ce ne sono tanti altri questo non c'è bisogna essere coerenti ecco in tutti i sensi ma non a tutti appartiene la coerenza purtroppo allora siamo alle conclusioni io ringrazio il sindaco Giuseppe D'Alonso intanto ci ha dato la notizia per questa pista da sci che potrebbe essere realizzata probabilmente nei prossimi tre anni vedremo insomma come si svilupperà il progetto ha parlato dell'emergenza anche idrica addirittura Tottea è nerito con i rubinetti chiusi di notte perché manca l'acqua paradossalmente ma con questi cenni di primavera insomma la situazione dovrebbe migliorare perché il ghiaccio e la neve insomma si stanno sciogliendo ringrazio l'assessore Forcellese ricordo che lunedì sarà impegnato per protestare insomma far alzare la voce alzare la voce contro il taglio dei treni giusto delle fermate anche alla stazione di Giulianova il numero dei treni è stato ridotto sensibilmente e ci ha parlato ovviamente anche dello sviluppo futuro per la prossima stagione turistica delle iniziative insomma che sono in corso ovviamente una importantissima è quella di non applicare la tassa di soggiorno almeno i sette comuni della fascia costiera le sette sorelle chiamiamo così i sette fratelli insomma della costa blu hanno deciso di non applicare la tassa di soggiorno per questo sabato è davvero tutto io vi ringrazio per l'attenzione ringrazio di nuovo i miei ospiti vi auguro una buona fine settimana arrivederci a testat a testat a testat Grazie.